Mazzoli 105 Ciao Mazzoli Quanto state indietro Voi non sapete Guarda guarda Che peccato Ma veramente guarda Vedete quello? Sono io La mia scusa per andare in giro così Ma ce l'avete un occhio e una dagipirina? No purtroppo Zero proprio Ho una cosa che potrebbe aiutarti molto Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Questa ti permette di usarlo tutto Hanno fatto le sperimentazioni Un farmaco approvato D'accordo è solo una curiosità e nient'altro Prima ero cieco Ora vedevo Una pillola al giorno e non avevo limiti Adesso però volevo altro Piede sto piede rubì La matematica diventò utile De solito è trading oppure si usano pure nei cripto 12.000, 2 milioni in una settimana Sono veramente stupido Lo sai che sei un mago? Qual è il tuo segreto? Stimolanti come può essere Fetamine Ritalin Le tue capacità sono un dono di Dio Non ci sono dubbi Ti darò tutto Potrai fare quello che vuoi Quanti di noi sapranno mai Che cosa significa essere perfetti? Quanto costa? 12 milioni La compro Che stai facendo tesoro? Pensi che qualcuno ci guardi? Il mio cervello brucia il tempo Non ho memoria degli ultimi quattro giorni Non ti sei guadagnato le tue capacità Ci farai uccidere Sai che farai quando tornerai normale? Morirai Io vedo ogni scenario Vedo 50 scenari Quella cosa mi mette 50 mosse davanti a te Vale il rischio Voi che fareste? Agigalo Ma che stai a fa? Ricordate che i squali Stanno arrivare Per le strade desolate di Termini C'è un salvatore che ci salverà Il suo nome Cicalone, il Simone E quel barbone caga lì E quel barbone caga lì LUCI Hello Closha Appropriato oggi E benvenuti in questa nuova trasmissione E quel clochard caga lì E quel clochard caga lì Ciao ragazzi Il finale è meraviglioso Il cavo lavoro assoluto Prima o poi Prima o poi Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi è quel giorno Eh sì, prima o poi doveva arrivare ragazzi Esatto Il bombardino Il bombardino Grazie Il bombardino ci bombarda sempre Senza che nessuno se l'aspettasse Nessuno Nessuno L'ultima persona sulla faccia della terra E ora ci tuffiamo dentro Stava lì quel cancello aperto Ma lo ignoravamo Ma oggi no! Oggi no! Oggi proprio come degli arieti Esatto Ma la leggenda poi narra che partì tutto quanto da un boomer Quasi sempre si parte da un boomer Che concepisce magari un figlio In questo caso un'idea Il Cicalone Gate È diventato un boomer anche quel boomer Esatto Porca troia Grazie In quel giorno Durante i primissimi Boscar Mamma mia Io mi vedo già Un ardo Quanta acqua sotto i punti è passata Specifichiamo che ovviamente non abbiamo nulla contro Simone Cicalone Il quale ha un format molto particolare di enorme successo Devo dire molti video li ho visti pure assieme a Gianluca A casa sua Io li vedo tutti ma penso di averlo detto Molto intrattenente Un format molto interessante Solo che ultimamente è uscito questo video qua nello specifico Che a quanto pare è diverso dagli altri Diciamo che ha diversi punti a dir poco criticabili Non tanto per Cicalone quanto per la sua compagine Chi lo accompagna Apprezzo il titolo Comunque paura, delirio e paura la domenica alla stazione termine Delirio e paura Delirio e paura si l'ha invertito Anche paura e disgusto sarebbe stato corretto come il romanzo da cui è tratto il film di Gingham A last termine Esatto Andiamo tuffiamoci perché dura una cifra e c'è molto di cui parlare Analizzeremo per l'appunto questo video che ha secondo me, secondo noi, degli elementi critici Andiamo, let's go Pasolini moderno pure Si, un po' si Non tirano la roba Oh, se meneno in questo video Signora, my mother Tu, quando passi qua, sito e respect perché io spezzare in due Siamo ritornati a termini per evidenziare alcune criticità della stazione Oltre che i problemi che ci sono sempre È una delle cose a cui tengo tantissimo No, no Marco, no Ma non partiamo subito con queste versciatine Scherzo, scherzo, scusate No Tate ragione, era una cosa così per scherzare E se inquadrate, guarda là dietro, vedi quel casotto Dici le porte automatiche difettose Il nome è il trolley Guarda che brutto sto trolley Bruttissimo, sbilanciato Tutto bislungo Orribile, sì, sì, sì Cui tengo tantissimo È la signora che vive nella casa di cartone Che è qui davanti Ed è una signora anziana Che sono ormai tantissimo tempo Che sta qui alla stazione termini Ma iniziamo questo safari Vedi dai Imbarchiando Eh? Fatua è? Tipo la guida allo zoo Ma, sì Marco, secondo te che telecamera stanno utilizzando? Allora, guarda Molto qualitativa Ma come che telecamera stanno utilizzando? Guarda, guarda che roba Ma guarda Guarda che qualità È importante Guarda, è una signora anziana Che sono ormai tantissimo tempo Una A6000 Però più di tutto ci hanno tipo No, secondo me Non è la Osmo Pocket No, non credo Mi sa che dopo ho visto pure un'ombra Sono passati alla È un po' più grosso Ah, ok Però ci sono i gimbal della DG Come si chiama? Della DG No Iphone Io diciamo Io avrei sollevato già una cosa molto greve Ma andiamo avanti Andiamo avanti Ignoriamo quello che ho detto Insomma Non ho capito Iniziamo questo Vediamo Vediamo Andiamo un po' di tempo Un po' di tempo 32 secondi Veramente Guarda Do dubbi come giunge a conclusioni Veramente pessimo e antipatico Andiamo Ma hai ragione Potrebbe avere uno stabilizzatore Non fuma Non si droga Anzi Tiene anche sotto controllo Che tutto sia pulito Però Stasignora È tantissimo tempo Che chiede aiuto Chiede supporto Ed è molto Molto anziana Banalmente Chiede un posto Dove mettere le sue cose Banalmente Adesso sta chiedendo un camper Per poter passare l'inverno Ma la cosa che colpisce più È che Sulla piazza In tre giorni Hanno costruito Questo temporary Del Molise Che è vuoto dentro Ci stanno solo i televisori Aria calda Ci hanno speso sicuramente i soldi Però questo fa capire Come se vogliono Con i soldi Sta giusta una cosa E invece Stasignora Sta ancora lì Guardatela Che si trascina Stracoperta Con mille problemi Anche di mobilità O altro E ha veramente Una difficoltà importante E ciò Prima di iniziare il video Voglio fare un appello Chiunque può aiutare Stasignora In qualsiasi modo In particolare Se avessi anche un camper Vecchio Da regalare Dove lei può stare Sarebbe perfetto Perché lei ha proprio chiesto questo Perciò A sto punto Iniziamo il video E ci facciamo un giro È pieno di proprietari Di camper Che non vedono L'ora di dare Il loro camperina Alla barbona di termini Io non vedo l'ora Che ciò venga Mi immagino Il tipico proprietario Di camper Che va sulle alpi Tutto con Con i papillons Oh sì Avrei effettivamente Un camper In aggiunta Sì Lo darò Alla barbona di termini Del video di Ciccolone Ma la vedi Però la signora è carina Ma chi dice niente Sua signora Guarda Veramente Anzi Convince No no Beh più che altro Se qualcuno Fa sto passo Toccherebbe pure Vedere la stabilità Del camper Pensa se gli arriva Tipo uno Tipo quello di Breaking Bad Cioè Pure comunque Controlli sanitari Eccetera Ed è già difficile Che comunque Ma che costo C'ha un camper Ma che cazzo Cioè Tanto Molto È un costo alto Quanto costerà Un camper Ma che mi ha preso Ma c'è pure Una manutenzione Magari Ti pare che dai un camper A un clochard Dalle chiavi del camper Sì Al vagabondo Cioè La signora che Moribonda Ti pare che Magari Se uno che gli avanza Magari c'è il tizio Che c'è là Vecchio Lì Che lo deve solamente Ma andiamo avanti ragazzi Stiamo fino a domani La previdenza sociale Va affidata Alla carità delle persone La serie Netflix La serie Netflix La serie Netflix Stazione Tempo Sì Si Mettila Moribonda nel caravan Romanticizzazione Del degrado Ogni secondo Un momento qua Ti ha fatto questa cosa Con due lita Che? E la stara Ventata la storia Ma chi ti ha fatto? Già che ne sono tante Di controverse Ma poi c'è Questo elemento Particolare Innegrita Che si scopre il tesere Lo conosco Mi hanno detto Che c'è sto ragazzo Che si spoglia E dà fastidio Si abbassa i pantaloni Sì al centro Ma ora fino a lì Chiugi gli occhi Mo ci pensiamo noi Mo gli lo diciamo Chiugi gli occhi Che non lo guardi Ma questo ormai Ha preso l'abitudine Con me Con lei proprio Sì Ma la signora anziana Cioè a lei Che si abbassa le mutate No Lo fa tutto No che si abbassa le mutate Che gli fa Ma lei rompe Pascia Lupa Gli rompe E ora ci andiamo a parlare Ma gli dai i pugni sul cartone suo Perché mi stavo a pensare Che dovevo parlare con questo Ce l'ho messa in porta Io per ripararmi dal freddo Però non è stato Mi sta giampato E' un bel cartone morbido No 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 Lascialo stare No no Lascialo stare Lascialo No Non lo metto Lascialo stare No no Non lo toccate No No Regà Non lo toccate Vieni con me Calmo Ascolta Vieni con me Non so le guardi Non ne vengono mai E' venuto quello da me Cato zotto Adesso vai anche a me No 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 Ci abbacca Occhio che c'ha C'ho tutte le braccia Ruinate Che hai fatto alla signora? Che hai fatto alla signora? Non sta bene La testa Ascolta Ascolta bene Signora My mother Tu Quando passi qua Zitto e respect Perché io Spezzare in due Ok Ho letto prima No Un commento in chat Tra i tanti youtuber Dove romper cazzo Proprio a cicalone Ma al migliore Ha salvato Ma che davvero Io veramente Io sono al di Guarda è lo stesso Identico discorso Di Franchino Ma non è cicalone qua È quest'altra persona Ma non è cicalone Cicalone Si vede che Le ha a mente Ste cose comunque Cioè In quello che dice In quello che dice lui Pure adesso No fermi Non lo andate Appena Neanche lo ascoltano E lo vanno comunque A prendere E comunque succede la cosa Però lui Si distanzia Ma infatti Era per dire Che Anche un canale Come questo Come quello di Franchino Possono essere criticati Nonostante i video Siano fighissimi E vabbè Nel caso di cicalone C'è anche una sorta D'amicizia Sono andato ospite Mille volte È venuto mille volte Ospite lui E infatti Dicevo che Le criticità di questo video Non sono Dello stesso cicalone Anche se comunque Il video L'hai montato tu Ma quelle persone Le hai scelte tu Quindi un minimo Di responsabilità C'è Le azioni In realtà Sono della sua compagine Come ho detto In apertura Purtroppo Soprattutto questo Mi sembra Veramente Un Un Bullo Che vuole Veramente comportarsi Da giustiziere È sempre Il solo discorso La giustizia privata Ok Poi fanno lì in chat Mi hanno detto Che io cerco rogna LOL Proiezione Match Non è l'approccio giusto Soprattutto verso una persona Che se vede palesemente Che non capisce Ah c'è Tekken Che Avrà sicuramente Le sue difficoltà Sì si vede C'è Tekken Che sta provocando Da inizio live Però ti lascio Perché farei C'è il discorso Cicalone è responsabile Del video Pure voi Quando invitate Personaggi discutibili E dipende Come ti comporti Tesoro della casa Se dai ragione A quel personaggio Esempio Elia Sì sì Hai fatto bene A fare quello Che hai fatto a social boom Non mi pare Sia mai andata così Però ok Oltretutto Non stiamo con situazioni Così stabili E persone problematiche Stiamo nel nostro studio Comunque Noi invitiamo Volendo Anche Belzebù Però Dipende come ti comporti In questo caso C'è stato Un leggero tentativo Anche dopo Di stoppare Per carità Però poi Alla fine Questo È un montaggio Non è una live Dove tu Puoi metterci Del tuo La cosa Ti scappa Di mano Ma questo Ovviamente Lo metti in video Perché Ma ci sono anche Altre questioni Molto più basilari Che sembra Ci stiamo dimenticando Ad esempio Il diritto Alla privacy Delle persone Banalmente Cioè Questo Sto ragazzo Che si è comportato male Con la signora Ok Che Gli ha tirato la birra Quindi è uno stronzo Ok Ma Secondo voi Ha firmato la liberatoria Per apparire in questo video Dove viene Preso E umiliato Umiliato In questo modo Secondo me No E perché Non ce ne frega un cazzo Perché Un cittadino Di serie Z Z-1 È un barbone Non ha diritti No? Se non sbaglio Cicalone ha detto Pure Questo Non sta bene Quindi se In realtà è pure peggio Cioè Se prendi una persona Con dei problemi psicologici Mi sembra ovvio Che l'approccio Ti spezzo le gambe Se continui Non sia il migliore Giusto? Sì sì Sai che Questa persona Non è stata colpita Però Mi ha ricordato La stessa mentalità Del pizzone Eh sì E quindi Ok Che non è avvenuto Però il principio È sbagliato Io già so Che risposta Ci può avvenire Se uno Va a sentire Queste parole E c'è una mentalità Del genere E no perché Quello Se faccio così Cos'è la prossima volta Non rifà Qualcuno mi ha risposto No Simone Perché non è una persona No Simone Perché non è una persona Adatta alla società Ok Infatti È proprio questo Il pensiero Che giustifica Tutti questi video Ma Viene meno Se chi lo pensa E attua Questa violazione Della privacy Fa finta Di essere Dalla loro parte Banalmente Se sei dalla parte Di una categoria Non violi I suoi diritti No L'unica giustificazione Può essere Però anche Anche me Mettendo la Censura L'unica giustificazione Può essere Magari questa persona È stata già Se Egnalata Alle autorità Eccetera Facciamo vedere Chi è Così almeno C'è un po' D'allarme Insomma Se qualcuno lo vede Sa che potrebbe Esatto Il fatto che esistano Dei corpi Abbiamo fatto già Altre volte Questo discorso Dei corpi appositi Per determinate operazioni Non è un caso Facciamo un esempio Estremo Questo ragazzo Insomma È stato Insultato Minacciato Perché è una minaccia Bella e buona Da sto tizio Con il cappelletto Quello col cappello È stato minacciato Questi poi se ne vanno Il video finisce Cicalone se ne va Gli amici suoi se ne vanno Questo poi magari Visto che Da quello che dicono Non lo so Non è detto che sia stabile mentalmente Decide di vendicarsi Con ancora più ferocia Sua signora Tu non lo puoi prevedere Dato che non incarni Una figura pubblica Che conosce i protocolli Sa quello che Va fatto Poi ovviamente La classica obiezione È ma Tanta polizia Non fa un cazzo Per carità ragazzi Ci sono Ci sono problemi evidenti Anche a termini Va benissimo Però Capite che se Questo qui Viene accettato Come modus operandi Si scatena il caos Allora io pure Posso dire Ma sotto casa mia Ci stanno quelli Che mi puliscono i vetri Che sono abusivi Mi rompono il cazzo La prossima volta Io do Tu sberle Oppure Il crociar Che rompe le palle Molesto Fiscia sui muri E meno O lo minaccio Non funziona così Non è una società civile È una società Da o fumetto Per gli invasati Da giustiziere Molto spesso Alcuni fumetti Poi in realtà Fanno vedere Quanto sia Autodistruttivo E distruttivo Per la società Anche il Punisher Anche il Batman Oppure È un qualcosa Che viene fatto Dai saltati Con le buone intenzioni Con le cattive intenzioni In questo caso È un format E questa è la cosa Bellissima Veramente Black Mirror Ironicamente Per come L'hanno messo Loro Tutto ciò È già problematico Se lo fai Pe cazzi tua Immagina Se lo trasformi In un format E ci metti Proprio Tutti i crismi Della Drammaturgia La musica Di sottofondo E le Tutte Le sottotrame I personaggi È super avvincente Diventa super Intrattenente Ma purtroppo Ha le sue problematiche Regà Non mettete Ver salame Sugli occhi Certo Sempre con il rispetto Però qua Cioè È una riflessione Che stiamo facendo Su questi contenuti Specie su questo Video in particolare Ma pure sugli altri Un pochetto I primi Sarà che era la Novità Sarà che c'erano Molte più storie Perché era una cosa nuova Però effettivamente C'era Un'area Completamente diversa In questo Caso Il problema È la compagnia Come stanno a dire Ma pure l'approccio Perché non si è mai visto Effettivamente No nel senso Non è mai successo Che hanno dovuto Prendere qualcuno Per il braccio Portarlo Quindi anche Prende una persona De peso Poi a me Spiace pure Perché sembra Che poi passa Una cosa falsa Sai qual è la cosa falsa? Che termini È l'inferno Tipo la guerra E che Cicalone È la buon costume Io non penso Io non penso Che siano errate Entrambe le cose È una zona Problematica Come tante altre Sì Però Secondo me Qui Il buon senso Di Cicalone Non è bastato Proprio perché Questi individui Non hanno Quel limite Di cui parlavamo Cioè effettivamente Negli altri video Non abbiamo visti parecchi Il buon Simone Riesce sempre A rimanere Nel limite Cioè un po' Informazione Un po' Stampo documentaristico Fa parlare Magari anche persone All'interno Di situazioni Particolari C'è ovviamente Un po' di voglierismo Però secondo me Sempre contenuto Ed è Molto interessante Per l'appunto Fa vedere i problemi Il degrado Anche il degrado urbano Senza persone Quello specifico Qui Effettivamente Siamo andati oltre In altri casi Magari loro Ricevevano minacce Tentativi di aggressione Allora lì ti difendi È un po' diverso Però qui L'hai preso De peso Portato davanti Alla macchina da presa Infatti non è mai successa La devi smette Se no te spezzo Non è mai successo È un po' diverso Ragazzi Sì sì Qua è diverso Poi tanto Questi sono i macro argomenti Ma vedremo Insomma Però era per sviscerarli Un attimo Tu Quando passi qua Sì ti rispetta Perché io Spezzare in due Ok a te Tu cugino Tu zio Tu padre E tu nonno Ok Go Via 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 su tiktok mi fanno anche ride perché faceva almeno un po' di tempo fa i video tutti uguali c'era lui con la canzone dei blanco e faccio così io non sono un padre bella regatta così mi faceva molto ridere però ma che cazzo spinni ma che è sta mano ma poi è una spinta proprio la spinta più moscia che ho visto una vita mia vede pure io sto a far mio ma l'ha appoggiato è un puggile se non sbaglio quelli di scolette dicono no non ti fa più così era per non essere da meno dal gruppo capito io pure ci ho messo la manina tu cugino tu zio tu padre e tu nonno ok go 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 stava ride pure che gli ha detto non ridere guarda il cicalone è lì non si dissoci a far cicalone come fate sentì che cazzo dice questo non dice non ride via go come on devi sta' buono come on via bisogna chiamare le guardie perché a me mi ha tirato i pantaloni sporchi addosso sì lui metti pausa ma pure il discorso che te stanno a urlare faccia così e te stanno a mazzo quello stava a ride ti fa capire che comunque almeno in quel momento non conosco l'individuo ma almeno in quel momento non c'è sta con la testa in generale proprio non è è l'ultimo approccio che doveva essere attuato ma infatti pure sta signora che dice ma tirati i pantaloni sporchi magari è una persona che effettivamente ha un'infermità mentale sì fai tratti così che risolvi ma è pericoloso per tutti proprio avere un contatto fisico secondo me io almeno in quel momento la signora stessa dice bisogna chiamare le guardie certo e invece loro si comportano come se hanno risolto il problema sì sì hanno risolto davanti alla camera è capito i rossi poi dopo che è successo niente ma che deve succedere è uno show a questa cosa dalla polizia non sta bene con la testa però ti preoccupa che domani non lo rifà ma non no lo rifà io questo ammichilito l'ha blastato domani non lo rifà abbiamo risorto non ti preoccupa che domani non lo rifà ma non no lo rifà io non lo rifà ma è venuto gli ha buttato la roba addosso ma senza motivo ma che voi pensate a chiamare i carabinieri e non lo rifà lo stesso ma i carabinieri che fanno i carabinieri non lo rifà sta bello non ci ha dito perché stanno pure a risponde perché i carabinieri cosa fanno magari lo portano questo è giga chad comunque sì lui va bene guarda la barba quella precisa è più chad di tutti ma guarda ma che l'ha fatta corgoniometro 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 proprio così comunque l'hanno fatto proprio scappare quella la cosa via via cioè volevano proprio una cosa e lui scappasse ma senti questa è l'obiezione che stavano a fa prima in chat ma tanto la polizia non fa niente la fa un membro della crew di Cicalone stesso e viene smentito dalla dalla glochard stessa è incredibile sentiamo è interessante hanno cercato di rispondere ma è stato tagliato mannaggia però gli stavano a dire che effettivamente quei carabinieri non lo rifà non si è dissociato in questo momento ancora Cicalone vedendo sta cosa lui stava là che annuiva vedendo una cosa del genere dire ragazzi però calmatevi non è questo il modo di comportarsi adesso che ci penso non sta per la glochard ma la tipa che gira con Cicalone la bionda ok scusate è uguale stava cercando di dire perché non avesse ragione la prima mi sembrava proprio la voce della glochard però erano in due che parlavano mi sa che era la glochard della prima volta erano in due la seconda quando ha detto mi ha allacciato i pantaloni era la ragazza che riprende però la prima c'avevi ragione comunque cioè pensandoci l'hanno visto l'hanno prelevato portato davanti la videocamera solo per dire queste robe per la scenetta go go per la scenetta che hanno usato nel trailer finito all'inizio in quanto pantomima in quanto show poi sono anche d'accordo sul fatto andrebbero chiamate forze dell'ordine risposta sì probabilmente non fanno nulla in una circostanza del genere sì che molto spesso è così succede pure con i classici rom problematici io pure ho un campo sotto casa ogni giorno succede un casino ti portano in centrale fanno le solite cose e poi li rimandano via poi qui magari se sei senza fissa dimora senza documenti ovviamente non ti fanno nulla e siamo d'accordo però questo non è l'approccio corretto c'è questo problema a termini un ragazzo disturbato mentalmente che generalmente se la prende con le donne ha uno stato di salute ha uno stato di salute precario e purtroppo è anche mentalmente disturbato nessuno gli può fare niente però disturba le persone allora sta diventando un problema è esagerato è tutti i giorni e nessuno interviene è tutti i giorni è arrivato qui e ha tirato la coca cola questa era la ragazza insieme a Cicalone questa che parla adesso è la crociata che ha aggravato proprio la situazione gravissima l'ha detto Termini no una di loro ok gli ha tirato una lattina lui si comporta come un bambino è malato ferma però è un uomo io ero con un'altra ragazza fuori stavo fumando una sigaretta dopo il lavoro e ci ha tirato della roba si ha tirato i pantaloni via e gli ha tirato in faccia si a me e alla mia amica gliel'ha tirato in faccia lui lo fa solo con le donne o con i soggetti deboli la signora è anziana esatto paride disturbato mentalmente virgola soluzione menamo si esatto e vive per strada perciò non c'è a tutele tu hai fatto bene a dire che è tu madre e se lo rifa ritorni qua e lui lui almeno memorizza speriamo sta cosa credibilissimo proprio lui memorizza lo sapevano lo sapevano anche prima che era instabile mentalmente perché l'hanno detto quindi questo approccio l'avranno ritenuto quello non penso che abbia un'alternativa e soprattutto aggiungo al discorso rompi i coglioni di prima sulle forze dell'ordine anche se tu non lo sai comunque il fatto che ci siano delle figure apposite serve anche per tutelare sia chi commette l'azione in quel caso la forza dell'ordine sia gli altri proprio perché può avere un'arma può avere dei problemi mentali tante dinamiche no cioè non è un caso che esistano dei protocolli ok e delle figure che devono esercitare questo tipo di potere sì a bottiglia rotta con un euro e venti capito scherzi la critica è che le forze dell'ordine neanche sono istruite e sanno gestire bene questa situazione e certo non è il modo migliore improvvisarci noi giustizieri ma e ci fai pure il format capito c'è sto discorso vale pure per chi lo fa senza telecamere c'è gente che viene reputata degli esaltati del cazzo faccio un messaggio orribile invece no se ti presenti bene a livello di marketing la poi sfanga che mondo di merda si vedi perché chiamare le forze dell'ordine all'ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio quando poi menaie esatto e poi c'è un altro caschittare che comunque di strada non ci capite proprio un cazzo meglio così se uno sta portando una persona come in questo caso devi comunque cercare di risolvere la situazione non in questo modo tra l'altro in realtà non è andata così cioè hanno visto il tizio in seguito ai racconti della Crosciar sicuramente reali per carità anche lì cioè attenzione noi ci fidiamo perché in questa narrativa lei è la vittima e probabilmente è così ma io dico probabilmente cioè non è che una forza dell'ordine sente Simone Santoro che dice oh quello abbassato i pantaloni davanti a me prende o maltratta le spacca la faccia no se fanno delle domande interrogatori cioè sono tutte cose che ovviamente servono di civiltà tu cioè non è che puoi dare per scontato cioè certo se c'è una segnalazione uno interviene in questo caso tra l'altro non lo so ma se parliamo effettivamente di una persona instabile mentalmente ci sono altri percorsi da attuare comunque andiamo l'esaurimento lui ce l'ha e lo fa venire a me la signora ce l'aveva anticipato era esasperata da sta persona perché eccolo guarda regà sta ritornando eccolo qua oddio mio cammina regà oh niente ho fatto in quadra in quadra cammina nell'aria così l'ha aperto davanti a tutti che deve fare sta l'aria non lo so che ha fatto qua il format non è girare per Roma e fare giustizia comunque non so se ti stai riferendo a noi abbiamo fatto già un antefatto di tutto questo quindi magari recupera la tira live stiamo parlando di questo video che è problematico non di tutto il canale di Cicalone Simone assolutamente però dovete aprire le orecchie ragazzi e le cose non le possiamo ripetere 70 volte grazie anche in questo video ci stanno due o tre parti veramente belle però due minuti il resto è proprio io sto parlando io sto parlando del format sì io ho dei pensieri sul format ma in questa live stiamo parlando di questo video a ragione Davide che ha degenerato un po' con questo video il format perché questo fa parte del format è il format che ha degenerato perché come ho detto anche in inizio live ho già visto dei video di Cicalone a casa di Gianluca che me li ha fatti vedere svariati e non ho riscontrato la minima cioè non mi hanno dato le stesse vibe di questo video questo è quel format con degli avvenimenti però grevi che non accadono negli altri video non in questo modo la maggior parte ma come ho detto prima nessuno era mai stato aggrappato e portato con la forza da punto A punto B o comunque cose del genere questa qua è la prima volta che vedo io poi ragazzi è un approccio terrificante sembra squadrismo poi magari in quel caso le ronde venivano fatte contro semplici minoranze chi non era d'accordo con il regime non è questo il caso però anche lì molto spesso si dice vabbè lo facciamo per ripulire le città ok il degrado molto spesso quindi attenzione a queste cose secondo me sono veramente lasciate perdere il discorso ma che cicalone fascista però sono veramente delle cose sono aberrazioni di una società civile mi dispiace secondo me il format era problematico possibilmente problematico anche prima quando l'ho visto per la prima volta però possibilmente problematico non significa che per forza deve succedere qualcosa era come se se deve succedere un patatrack prima o poi potrebbe accadere ed è questo video il patatrack non so se mi spiego io l'ho vissuta così cicalone fa fasto format potrebbe avere delle problematiche perché per tutti questi discorsi stiamo facendo sul giustizialismo la giustizia privata il renderlo intrattenimento bla 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 finora però non è successo niente di che con questo video sono più esemplari le problematiche e meno speculative noi ci parliamo noi matti matti però spiegaglielo senza senza con calma senza perché la signora anziana bravo cicalò perché gli dirai cosa addosso ti ricordi che mi hai tirato i pantaloni a me l'altro giorno ti ricordi ti spieghi allora ti spieghi io lo spiegiamo un attimo senti un attimo guarda te lo spiegiamo in lingua civile tranquilla allora se tu dai fastidio alle signore alle donne eccetera prima però però senti a noi senti a noi però occhio perché se noi ti ribeccamo poi dopo ci arrabbiamo sto ragazzo altrimenti ci arrabbiamo come ci arrabbiamo ma lo stanno assieme dobbiamo mostrarlo proprio perché la gente lo deve sapere che c'è ma guarda come scappa scappa con le donne sono buoni tutti con le donne si oh Rodolfo come stai tutto bene mi hai detto si mi hai raccontato dai basta che ti riprendi bene bene ciao ciao questi sono i peggiori è proprio questa zona peggiore qui ci stanno quelli più schelerati altrimenti qui uno ha provato ha provato alzare la bottiglia capito c'era buongiorno 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 non ti parolacce non è bello un attimo una cosa crevissima mi confermate mi confermate che questo ragazzo si chiama Mattia Pileggi è lui? è lui? questo ragazzo chi? uno di questa banda si quello là che gli ha detto che c'è la barba da Chad eh il Chadone? si è lui davvero? si si chiama così allora posso fare una domanda? si si perché in questo suo video instagram spero per ironia ci sono i seguenti hashtag leggo? è Leggi è Leggi Mattia Pileggi avanti ragazzi di Buda Italia Box Ultra Lazio Curva Nord Fascismo Duce Dux Ultra me ne prego SS Lazio Bandano Antri per satira per satira Gemellaggio vabbè era battuta è tutta satira fascista Ultra Lazio Arditi tifosi italiani Budapest Twinning Story ah meno male se siamo almeno aperti con sta cosa ma è perite ma perché è perite? è così secondo me sottile satira poi sembra una cazzata aspetta che metto Whatsapp noi avevamo dubbi io invece ho ancora dei dubbi cioè è tipo un comico lui oltre che un grande atleta no? eh sì è così il pugilato io non lo conosco quindi non lo ma potrà avere le sue idee scusate eh ma penso che sia tipo una gag tipo che tipo quando te dicono troppo una cosa e ti dici da scrivo che fa esatto cioè non è veramente laziale mi confermate? ma secondo me non lo so dai ti vai a dire queste cose in giro pubblicamente che è laziale ok ecco qua ragazzi vado sì sì questo è il video questi sono i tag vai il video è bello sì sì potentissimo no aspetta che no la mia luna che c'entrava che volevi vedere ho la canzone e vabbè ragazzi notte decente più mesi non è fare la tua posta è l'attanas giuro come si chiama sta canzone avanti ragazzo di budda vero? per curiosità no perché sta a budda no sta a sofia non so che c'entra a budda penso Buddha a budda canzone anticomunista italiana canzone anticomunista italiana aaaaaaah si si è una gag dai palese gag fa riferimento alla scatenarsi della rivoluzione ungherese ok la rivoluzione dell'unione di soluzione di etica si è diffusa ancora oggi molto conosciuta negli ambienti della destra italiana va bene ragazzi andiamo avanti tutto uno scherzo non è veramente razziale la polizia è stata la zona è figa oh 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 però non devi tirare la roba non tirare la roba oh 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 se stai vai ma per te sta cosa non tiri la roba bravo non tiri la roba grava lui grava non tirate la roba questo mi hanno detto in chat comunque ho letto che vuol dire registra lui grava lui grava e poi se c'è per caso gli parlano nel microfono quindi l'hanno vista bene la telecamera cosa sta succedendo qua? sono avvicinati a questo gruppo di glochard e poi che è successo? a me c'è un'antipatia un po' che è cioè che cosa è cosa è successo? allora vedi qua allora la visione delle persone che guardano è arrivano e il gruppo di glochard ancora non li ha visti no? quindi non non vi è un'interazione umana ma che succede? uno ha provato ha provato a arzare la bottiglia che vi facerà anche se fosse passata la mia madre buongiorno loro anticipano al pubblico che questi qua sono problematici e tirano le cose quindi si stabilisce una sorta di no? già storiella perché già c'è stato il capitolo precedente il precedente esatto c'è un video penso immagino pure prima si stabilisce il contatto non di parolacce primo pretesto per dire qualcosa che non va bene non dire parolacce occhiamo la polizia come si chiama questo tipo di approccio cercare qualcosa non mi ricordo come il termine scouting bello scouting e poi e poi e poi e poi tutto avviene da sé e che non c'è il diritto di passeggiare ma c'è state a difendere gli aggressori e quella diciamo la cosa no vabbè secondo me questa non è una parte problematica per la scelta loro nel senso stanno a fare ripese in quel posto per far vedere il degrado questi effettivamente hanno tirato subito non è che hanno provocato io sto solo analizzando quello che succede a livello proprio di interazione qui alla fine hanno fatto un cazzo sono passati non di parolacce se no chiamo la polizia evidentemente Ciccarone lo sapeva già perché insomma ci è passato mille volte si sa che questo è un gruppo però provano sempre sarà un gruppo di ubriagoni che prendono e tirano le bottiglie quella cosa loro è che ci cercano sempre il dialogo capito non ci hanno mai l'approccio che magari che ne so se girano e scappano via cercano sempre a tranquillizzare e perché è andato direttamente da loro allora? per far vedere sta cosa perché lo sapevo comunque è un suo modus operandi nel senso quest'approccio è solito che accada però non è solito che gli lanciano le bottiglie però è il resto è sempre avvenuto ok un'altra domanda allora cosa serve tutto questo? per far vedere è una situazione problematica di termine o di altri luoghi tu farcisi in prima persona come un Bear Grylls come un Bear Grylls si diciamo avevi detto un reporter però vabbè ok dai si stanno a lamentare che regista si chiama documentario si ma perché infatti quando inquadri il Lemure lo puoi inquadrare e puoi osservare il Lemure che lancia la merda e non deve firmare il foglio e la liberatoria per la privacy il Lemure il Barbone viene trattato come un animale ok se non l'avete capito fin dall'inizio la metafora è questa questo è un safari con degli esemplari di fauna di un determinato posto in cui si va nella gabbia nella presunta alcune sono letteralmente gabbie di cartone se così possiamo dire di fortuna a interagire con gli animali feroci questo è e a che serve? serve a intrattenerci serve a fare un reale cambiamento nella società? no serve per fare un format di successo? sì a intrattenere noi? sì poi? magari un po' metti in luce a tirare l'attenzione metti in luce sì però è difficile è una cosa molto come metti in luce la fauna della giungla che ti vuole uccidere vai là oh ragazzi qui dietro c'è il babbuino lancia merda ora tenteremo un contatto salve ci sta lanciando la merda fermi 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 tutti ragazzi è accaduto quello che ho detto oddio ci sta lanciando la merda cioè wow e noi stiamo là oddio ma la giungla è veramente un posto affascinante esotico e strano avvengono delle cose fuori dal comune solo che termini grazie che si fa ti rispondo intanto leggo franchino il criminale che scrive mi dissocio dai ragazzi di Buda e paresemente una gag non è della Lazio grazie per il bit allora devo dire una cosa è giusto che si ponga l'accento anche su questo aspetto che può essere problematico di tutto ciò che riguarda il voyerismo un format di questa tipologia come ho detto prima secondo me ci sono dei limiti e ci sono anche dei lati positivi nel senso che ci sta questa analisi molto spietata forse un po' ingenerosa d'altro canto aggiungerei effettivamente è una sorta di documentario fatto da un singolo non è un giornalista però insomma sta riportando qualcosa che magari anche fuori da Roma non si conosce così bene ed è a suo modo dov'è il diritto alla privacy di queste persone quello è un altro discorso è il discorso fondamentale ma guarda posso finire una cosa il lemure non ha la privacy il leone non ha la privacy una persona per quanto pezzo di merda che te tira la bottiglia e te fa rosicà ce l'ha il diritto alla privacy il discorso della privacy è un'altra cosa tu dicevi in generale a cosa serve l'approccio secondo me può anche essere un qualcosa di informativo se vogliamo poi che principalmente la fruizione dello spettatore sia in chiave ludica e voglieristica sono d'accordo però non serve a niente non direi nel senso alla fine è uno spaccato chiamiamolo così poi questo spaccato può essere un pretesto per calpestare altri diritti no secondo me ma in questo momento lo sta facendo ed è un problema per come vedo io il discorso generale è un punto importante però non è completamente inutile brutto sbagliato eccetera secondo me questo è il mio punto di vista se posso dal mio punto di vista che si basa solamente su quello che ho visto cioè tutti i video che ha fatto a termini sfido chiunque a dire non è vero questa qua è solo un info non voglio far delle percentuali però la grande maggior parte delle volte che le persone si incazzano si incazzano perché vengono riprese quello è il motivo che le fa incazzare e allora cioè anche in questo caso se ci fate caso sì sì come in questo caso infatti quello se nasconde quello che tira la bottiglia se nasconde appena lo vede quello è inevitabile quello è inevitabile però aspetta quello è inevitabile se fai sti video ok però non è evitabile il fatto di dover non non censurare chiunque ci sono a volte censure però proprio è raro a intimorire fisicamente così proprio se dovrebbe fare un lavoro di sfocatura e magari sceglie no 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 questo qua è quasi sempre il modus operandi solamente delle info aggiuntive Giallu tu che hai visto tutti i video intimorire fisicamente con la presenza e minacci minaccine quello è un po' sempre no 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 come no ma l'ho visto insieme a Gialluca ma come no ma chi però non Cicalone sempre gli stessi personaggi ma spesso lui li fa pure sono fatti in quel modo a volte li fa con Mattia eccetera pure quando sono andati nei campi so che se riferisce si muore dipende però se è difesa da una potenziale aggressione cioè negli altri è molto raro che loro Cicalone più Mattia o altri vadano verso persona di intimorire io non l'ho mai visto no 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 ma sempre a si livello mai no perché sempre se uno magari si comporta male male si se si fa il roto del culo ma se uno si fa il roto del culo no e tu dici è sempre in autodifesa no ho capito ma come ha detto Gialluca ed è la sacrosanta verità non lo sto dicendo io l'ha detto Gialluca ed ha ragione il motivo per cui si incazzano è perché sono ripresi in the first place vabbè ma è un dato basta sono ripresi quindi se arrivi a doverti difendere in modi intrattenenti violenti e intimidatori da un barbone non è perché il barbone è pazzo è perché stai a fare proprio il video quindi non dovresti proprio fare il video inizialmente anche perché è pazzo anche però ci sono tante problematiche allora quelli non vogliono essere ripresi perché poi finiscono chissà dove cioè su youtube quindi alla fine il danno non è che sta là perché comunque quando gli dicono di essere ripresi abbassano l'inquadratura tutto quello che vuoi io dico che se Cicalone aggiunge un lavoro di editing per magari sfogare i visi delle persone che non possono essere riprese quello là sarebbe anche perché non è in diretta per dire pure perché gli viene chiesto magari no non voglio essere ripreso non voglio essere ripreso però magari può capitare che quella persona viene ripresa due tre secondi dovrebbe sicuramente uno può disticarsi sì però è un dato chi censurerebbe allora se lo facesse veramente il giornalista no polizia no dico se se Cicalone in questo video ad esempio avesse censurato il volto del ragazzo che abbiamo visto prima ma il video sarebbe stato ugualmente succoso no ovviamente no censura le varie forze dell'ordine oppure insicurati non è la domanda che ho fatto arriverebbe Cicalone arriverebbe e chiunque facesse arriverebbe a censurare quelli più grevi perché ovvio che quelli più grevi non vogliono essere ripresi e fatti vedere ma sono anche quelli più grevi che decretano il successo o meno del tuo video quindi perché no Michael Zena perché ovviamente vedere in faccia la persona problematica è più succulenta come cosa ma sì non ci vuole molto per capirlo ed è anche il motivo per il quale ci sono figure che devono rispondere ad un codice deontologico stesso discorso delle forze dell'ordine perché il giornalista è obbligato a censurare perché il giornalista non può mettere il nome di una persona magari indagata se non è un personaggio pubblico perché c'è un albo o ci sono dei codici deontologici andiamo state proprio omessi come boccaloni non vogliono farsi riprendere perché può essere una prova sono clandestini regolari o gente con problemi con la legge questo però amico mio a parte il fatto che non è vero non gli leva il diritto alla presa perché non è detto intanto tu non puoi saperlo tu non puoi saperlo quando accendi la videocamera tu non puoi saperlo non lo sai che ne sai se è clandestino che ne sai soprattutto anche fosse cosa cambia non cambia nulla non cambia nulla i pregiudizi e li vedete come cittadini di serie B magari anche inconsapevolmente piantatela è un consiglio questo cercate per un secondo di vederli come vostri pari come esseri umani non è che decade il diritto inviolabile dell'essere umano perché è clandestino secondo molti si capito perché invalgono un cazzo certo perché pensano che sia la feccia della società mi dispiace ma è così parla parla prima parla ma hai girato la bottina parla prima parla parla ma hai tirato la bottina lascia lo sapete lascialo parla non si litiga ah si sono d'accordo lo volevo dir prima tra l'altro tutti a criticare Brumotti non mi pare molto diverso l'approccio si infatti cioè Brumotti è un pezzo di merda che deve morire però qua va bene anzi a volte censura volete più Brumotti ipocriti però paradossalmente guardate questa è la differenza tra Brumotti e Cigalone Brumotti se la prende con gli italiani con le persone con un lavoro persone che vanno a fare la spesa non solo pure con i spacciatori no 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 ah è vero pure con gli spacciatori è vero è vero però si fa indignare ogni tanto l'aveva fatta pure la cosa dei falsi è vero è vero è vero rompeva i coglioni a chi metteva la macchina ma infatti è più difficile dover difendere però quelle categorie sicuramente che la signora che è stata ripresa perché ha messo la macchina al posto di handicappati cioè la vera spaccatura in chi difendeva Brumotti infatti è replicabile anche in Cigalone mi ero proprio dimenticato tutta la la parentesi dello spaccio effettivamente è molto simile eppure là ci siamo a volte anche sgolati ma anche Cigalone per cercare di di far pure Cigalone stesso contro Brumotti e vabbè allora tra l'altro la cosa simpatica forse mi sbaglio la censura qui c'è ma per le parole del pugile è fantastico è fantastico se tu vai indietro si sente che gli fa scusa sì sì perché a un certo punto fa scusa Simo come per dire ho esagerato le parolacce no lui viene censurato è bellissimo un minaccio o cose peggiori però non lo possiamo sapere che gli sta a fa così vedi e giustamente Cigalone mi fa fermate buono un attimo non esagerà scusa Simo senza parola scusa Simo no noi è imbruttite 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 parliamo bene per non vieni così se ti metti seduto non ti riprende se tu stai seduto non ti riprende lo dice un amico tuo non è vero quelli seduti noi non li riprendiamo non è vero hanno ripresa la gente che stava là sdraiata che sta comunque in una situazione che uno deve calcolare magari non è solo che vuoi nasconderlo perché sei un immigrato clandestino magari che uno sta in una condizione di indigenza totale alla famiglia non gliel'ha detto però dorme per strada poi magari quello davanti è un criminale che lancia le bottiglie ma quello dietro il signore che dorme là che comunque ora è davanti a 700.000 visualizzazioni sta lì soltanto perché non è casa sua però sta in mezzo alla strada e nessuno rispetta il fatto che lui non c'è là una casa e quindi tutti pure in chat ho letto molta gente e dice vabbè ma è un luogo pubblico quindi non parlate dei privacy ho capito ma non ce l'hanno una casa stanno a dormire per strada allora gli potremmo fare quello che ci pare gli potremmo proprio mettere in telefono in faccia è un luogo pubblico se pensare così è un luogo pubblico gli mette il telefono così no scusate per rispondere un po' dei commenti seppena non li hanno visti hanno urlato hanno lanciato bottiglie e che ha detto al contrario non è da dito che è giusto il punto è questo ragazzi allora qua bisogna essere molto chiari bisogna essere molto chiari i diritti degli esseri umani rimangono gli stessi anche per i peggiori criminali lo capisci o no? Luca ascoltami no Luca forse chissà sabato comunque se io uccido una famiglia ok? faccio uno stermino di bambini comunque andrò a finire ovviamente in carcere ci saranno dei procedimenti legali eccetera non è che se uno arriva e mi spara in testa poi uno potrà dire ah beh sti cazzi è una merda umana deve morire ok? oppure il padre è comprensibile che abbia sparato ok ma per la legge non funziona così cioè non si può e poi qua chiaramente qua non parliamo di cose terribili ma vi sto facendo l'esempio più estremo ok? la base di uno stato serio ok? uno stato civile è questo non c'è il cittadino che può fare giustizia secondo i suoi principi secondo i suoi mori con le sue informazioni limitate con le sue supposizioni altrimenti ragazzi veramente caos anarchia uno mi taglia la strada e beh per me è una mancanza di rispetto estrema boom pizza in faccia vabbè lo posso fare uno mi tira una bottiglia magari anche un criminale in quel momento ha commesso un abuso sì certo allora che faccio lo minaccio gli è meno perché è giusto così loro pensano la notte del giudizio sì è il medioevo la notte del giudizio eh sì sono gli unici che hanno il coraggio gli uomini delle caverne che risolvevano gli screzzi a colpi di clava tra l'altro non è coraggioso questa roba non è coraggiosa questo è l'opposto del coraggio ragazzi che coraggio è? in branco di bestioni tutti pugili contro persone che barcollano che coraggio wow c'avete veramente dei modelli completamente sballati di coraggio lancia una bottiglia il dovere di condannare questa cosa è deficiente ma secondo te ma devo dirtelo io che è da condannare una bottiglia lanciata addosso una persona il problema è che nessuno ha dubbi su questo ma molti sono d'accordo con la condotta di questo cazzo di tizio di questo pugile cioè nessuno in chat ha scritto ha fatto bene a tirare la bottiglia mi sembra giusto? dai su veramente siete ridicoli fermi 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 parliamo se vieni vieni parliamo non si parla non si parla non si parla non si parla fermi grazie a Dio de Simone è fatto subito ok stavo parlando vuole parlare si ma perché bevono regà non dico voglio parlare no ha fatto te non mi sembra non mi sembra sono stati italiani ha tirato bottiglia ha fatto cose c'erano bottiglie hai sentito che ha detto non devi venire a casa mia ha detto il crociard ah ok vedi cioè se è giustificato così ovviamente non è una giustificazione però lui non riesce cioè non parla bene però io da quello che ho capito lui gli dice se parli prima me lo dici poi registri esatto perché questa è casa mia comunque poi è sbagliato ovviamente il gesto cioè mancherebbe nessuno vuole giustificare è solo per spiegare in un video precedente hanno già discusso con sto tizio se hanno discusso sulla stessa cosa sulla ripresa lo continui a riprendere è ancora peggio che vedevo di cioè vabbè non devi fare così ora tiriamo passando qui facciamo qui me la dici sono me la dici hai capito no tesoro tu hai il diritto di riprendere ma nel momento in cui diventa pubblico no amore della casa se tu lo tieni per te è pubblico anche perché se è veramente questo conosce Cicalone ha già visto altri video pubblicati lo sa sì sì ma questo qua è un posto dove è proprio conosciuto proprio sto posto tra l'altro non esiste il diritto specifico proprio quell'angolo là è proprio un posto dove già sono stati dove già sono successe le stesse identiche cose perché non volevano essere ripresi perché stavano c'è stava un tizio un briago fracico che sempre gli voleva andare che gli voleva ambruttì perché è proprio quel punto là quindi passando lì già lo sai che quelle là sono persone che si potrebbero incazzare a me è ogni cittadino che passa là secondo te o perché già sono stati dei trascorsi tra loro secondo voi secondo me perché si vedono ripresi eh si vedono ripresi vedono la telecamera comunque poi già sanno che sono persone che stanno lì a riprendere se vedono ripresi e si incazzano secondo me al di là di quello sarà la terza volta credo mi ha colpito molto la frase questa è casa mia perché non è scontato ma la ragazza gli darà una risposta questo è solo pubblico no no non ci arriverai mai quanto prossimo il fatto che l'essere umano anche nelle situazioni più di tragedia magari sì sono dei depistelli è quello che volete ma il discorso di Davide prima spero che non ve lo siate già dimenticato il fatto che si tenda anche a dire che un metro quadro di cemento sia casa mia no non è da rispettare questa cosa perché cioè ok che noi abbiamo le nostre case che sono delle vere case ma se non ce l'avessimo e decidessimo nella disperazione che questo metro quadro è casa mia c'è però qualche non lo so almeno il rispetto non dico il diritto a livello statale ma il rispetto umano per questa cosa una riflessione sì dall'altro canto ovviamente uno potrebbe dire sì ma comunque non puoi bagabondaggio è anche illecito ovviamente ok è illegale non avere una casa perché è follia no no non ti puoi mettere lì in modo stabile ma noi dico a livello proprio umano è simbolico cioè ovvio che personalmente cioè per non essere delle bestie di satana certo personalmente dovresti renderti conto che quelle sono persone che non hanno alternativa nella maggioranza dei casi ma tu non puoi saperlo comunque New Granny che scrive la cosa bella Marra è che tu e Simone siete prevenuti secco così cioè ho fatto quattro video con il cicalone non mi sembra lo conosco molto bene e tra l'altro si appunto no ma per dire uno potrebbe dire è stato il cazzo prevenuto di che che lo adoro tra l'altro qui in realtà stiamo parlando di altri approcci e di alcune problematicità legate al format vabbè comunque non me la dici non me la dici hai capito non me la dici vuole parlare chiamo a me vuole parlare ma poi sei regato stavamo a 20 metri noi stavamo a 20 metri non stavamo qua ma che è davvero cioè al di là che questa scusate fermi oh regà però fermi natti allora questa è una metri è un passaggio da metro uno ci può passare qua no allora se voi a 20 metri ti tirate una bottiglia guarda dove è arrivata la bottiglia sta qua ma non mi ha preso qua eh questo dì però stiamo a fare un discorso a quattro ritardati se ne erano quattro ritardati non stavano qua non ti tiravano la bottiglia ah scusa sono venuto a casa tua ah no è vero ma non è casa tua perché una casa non ce l'hai quattro infami ci stanno due donne ti ribottiglie ma alzo le mani ma l'ha detto davvero regà è una gara che pure questa cioè mi è stata prendendo in giro io non ce l'ho arrivato a sto punto come si può come si può dai ma veramente come si può non intervenire dopo che senti una ragazza e dice una cosa del genere al montaggio ma che è sto schifo con taglio e levare questa frase infatti levalo Simo levalo cioè sta roba è vergognosa dai te dirà una bottiglia ah scusa sono venuto a casa tua ah davvero non è casa tua perché una casa non ce l'hai quattro infami ci stanno due donne direi bottiglia sì 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 certo perché è sempre una scelta ovviamente è una colpa è sempre una colpa è sempre una colpa noi ci dissociamo proprio completamente con l'affermazione per carità esatto palle uomo e sta roba è sopravvissuta al montaggio hai capito non capisco veramente non capisco allora qui secondo me o c'è un'ignoranza stile ale della giusta vi ricordate quando presero per il culo quel clochard in America oh ma guarda questo ondo cazzo va come se non c'è persone adatte da portarsi dietro ma anche perché poi cioè Cicalone riconosce anche queste situazioni no il degrado ci vuole anche rispetto nei confronti in questo caso proprio della povertà neanche di queste persone uno può dire non voglio portare rispetto a chi mi tira una bottiglia per carità puoi essere un infame ok però in generale questo è un discorso che si può applicare a chiunque no ah coglione te la casa non ce l'hai perché sei R non funziona così il mondo noi siamo fortunati l'Italia è un po' c'è venuto a piedi chi ti c'ha invitato chi è che è successo è quello che mi ha tirato la bottiglia sei in faccia dove l'ha tirato lui da dietro lui o quella che c'ha ma per quanto hai fatto la visione che vuoi dire non ti capisco ma per quanto hai fatto la visione non mi fa fatto la visione ma se vuoi non parlo più no le video che è che è questo se sta così a preparare scopio io no te prego te prego no te ci va ridere veramente c'è un escalation terrificante sei preparato va a Van Damme mamma mia ma che è oh mi fa fatto la visione ma se vuoi non parlo più dimmi solo quello che devo fare sì 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 terminator Rambo grande grande passa mia madre qua davanti ma è bello no ok ma non è buono che tu tira una bottiglia questa ragione come questa non eravamo siamo vicini siamo vicini siamo vicini non è venuti tu a me siamo tranquilli lui si è infame è uno che tira la bottiglia è femmina in cesso andrebbe a avere preso per quello che è non c'è non c'è il maschio è uguale ha più che ha le pitture ha più di saha questo è bravo ragazzo perché c'è nooo quanto è poligrotta Maria mi ha fatto calmare solo Maria ma ti che sta a fare se non è giornalisti ma vabbè non è giornalisti l'ha tirata quello che è sarsato il piccoletto che io sono nato sotto io quando ho tirato la bottiglia una di plastica e una di vetro quello ha tirato quella di vetro c'è ma c'è te ci sporchi solo le mani te ci sporchi solo le mani dai ma questo è un documentario ma è un documentario questo uno versus uno uno versus uno è un documentario questo ritornare là accende la fiamma a cercare rogna è un documentario ma ragazzi mi dispiace ma è indifendibile vaffanculo raga un fight è indifendibile sotto tutti i punti di vista una di plastica e una di vetro quella ha tirato quella di vetro c'è Marcee te ci sporchi solo le mani ti ci sporchi solo le mani Marcee te ci sporchi solo le mani ma no Marcee ti ci sporchi solo le mani porco due ma st'ambriaco Marcee Marcee st'ambriaco ma poi scusatemi ma prima hanno messo la camera a terra ora riprendono di nuovo si si ma è una pesa per il culo infatti ma che vuol dire perché devi fare la scenetta del grosso dell'uomo del picchiatore contro l'ubriaco che a malapena rimane in piedi Bob? senti che gli dice non ci parlo non così non ci parlo non ci parlo non ci parlo non ci parlo ma non ci parlo non ci parlo non ci parlo io in realtà parlo con rispetto parliamo ma se io manco rispetto a te ti schiaccio come un bagarosa io non manco rispetto perché io non ti schiaccio tutto capito? vabbè vergognoso così è un po' un po' troppo ti schiaccio come un bagarosa che cazzo sei tu davanti a una persona tu in realtà io comunque è maschio alfa è questo assolutamente potentissimo io problem io molti problem tanti problem ce ne eravamo accorti sono venuto qua a risolvere altri problemi e tu no buono se passa mia figlia tu no buono riprendi se no di dopo se ne faccio dire combino a me me ne f***a a me questo vabbè è tempo perso con lui capito è tempo perso ma perché ha detto ha anche detto prima il clochard ha pure detto ma se vogliamo parlare io ci sono per parlare si è pure mostrato aperto a un possibile dialogo ma non si sa a parlare di che però no è come se non fosse stato minimamente ascoltato ma non avete sentito che ha detto te voglio dire la verità io voglio menà senti guarda che fa vabbè è tempo perso con lui è tempo perso ma so così questi questi un fight un fight gli ha detto più chiaro di così fammo un fight io e te qui ragazzi mi dispiace ma c'è pure la responsabilità di Cicalone mi dispiace ma c'è il contenuto impacchettato non nelle azioni qui perché comunque vedi stempera si mette là però la lasci al montaggio no la lasci pure la lasci significa che questi messaggi inconsapevolmente o consapevolmente li vuoi far passare perché perché ovviamente crea hype saranno i momenti più visti presumo è ovvio mi dispiace ma poi Cicalone immagino l'editor quindi quello che viene detto ogni sillaba che viene pronunciata deve essere comunque timbrata da lui che è il capo cioè il canale è il suo il prodotto è il suo poi lo vedrà il video prima di pubblicarlo ma certo oppure non lo so è tutta colpa del montatore ma che montatore lui di solito monta pure perché è bravo lo fa proprio lui professional si 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 cioè è bravo a fare i video poi per carità ragazzi si può prendere una cantonata secondo me è quello magari fai dei video ti fanno virali sono interessanti eccetera e ti fai scappare la mano però così è veramente una deriva dai ma chi è sta gente che ti sei portata appresso veramente Simo sinceramente poi lo sentiremo non lo so ci parleremo però magari sono persone non lo so che ti porti per tutelarti solitamente faceva così però per esempio Mattia Faraoni non si sarebbe mai permesso di fare una cosa del genere perché è un bestione è uno che volendo volendo ti può proteggere può fare da bodyguard ma non si sarebbe mai permesso e non si è mai permesso di fare una cosa neanche lontanamente paragonabile è lo stesso Cicalone neanche cioè questa gente evidentemente se io stessi nei panni di Cicalone godrei in quanto il canale è il mio e le cose grevi le fanno gli altri io mi limito semplicemente a mettere la mia figura a montare il video a creare tutto l'impacchettamento che è fondamentale ma a livello paraculo perché io sono un enorme paraculo godrei di questa situazione mi starebbe benissimo ne sarei consapevole al 100% però è una cazzata io Simone perché lui ce l'ha delle responsabilità per la gente che porti ma pure perché stando qua invece di di no sì non è che puoi insultarlo così che è una cosa che potremmo dire ma lascia i perde questi non ha ovviamente un'aggiornata ovviamente lui in prima persona non ha commesso niente di problematico non si è messa in bruttino non ha minacciato ha altre responsabilità sì magari sai l'intervento in quel momento ci può stare però al montaggio non hai scuse al montaggio non hai scuse non hai scuse stai lì tranquillo in camera tua te lo monti sai forse è stata una live non sono riuscito a gestire la situazione problematica mi sono portato le persone sbagliate sempre le stesse alcune questi sì questo qua col cappello è la prima volta che lo vedo ma il pugile sta in ogni video sì sì una giornata i leggi sta su ogni video effettivamente in questi ultimi mesi a parte che è da tanto 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 tempo che lo vedo nei suoi video sì sì però ripeto senza fissa però non è mai successo però non è mai successo appunto con franchino con faraoni queste cose non sono mai successe no perché perché sono persone che non hanno questo atteggiamento aggressivo non è stato lui lui non è stato no lui non è stato il primo sei stato te ha cominciato a parlare male tu io prima hai parlato male ma io dormi qua 4 mesi dormi in strada chi è quell'ar*****a dalla sedi che strillava sarzato vi posso dare un consiglio è tempo perso come fatti c'era da menaglie spegne la camera e menaglie è tempo perso no ma anche è tempo perso spegne la camera e menaglie cioè ti fa capire poi ripeto è un'illazione questa evidentemente al di là del fascino della videocamera cioè questo l'avrebbe fatto pure off cam quindi neanche dicevo lo faccio per la videocamera è certo che è peggio cioè lui sta dicendo tipo spengo così poi gli posso fa de tutto capito le peggiori cose poi magari è una cazzata lo sta a dire per fare il grosso però ragazzi sono tutti i messaggi terrificanti terrificanti cioè tipo spegni sta camera che ho corco perché l'intento non è allora quello documentaristico eh eh ancora più perso il tempo se tu ce li discuti se non so ambriachi capiscono ma se tu quando so ambriachi ce li discuti cerchi di fargli capire qualcosa anche coi brutti modi loro non capiscono come il Pasolini del ventesimo secolo Mattia guarda questo pure continua è qua mamma mia non ce la fa non imporre il suo testosterone sugli altri non capiscono Mattia Mattia guarda questa cosa non c'è fa sì ma non l'hanno tirata allora vi dico una cosa è un passo di danza guarda la gambetta guarda 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 è topo vandamo si ma non l'hanno tirata allora vi dico una cosa ve lo dico per esperienza non l'hanno tirata con convinzione l'ha tirata così l'altra volta invece la discussione c'è stata è che quello voleva venire con la bottiglia così a col piccio allora gli ho detto guarda se tu alzi la bottiglia su giro te mena io ho detto vecchio se stava a metto e mezzo a darci uno schiaffo a me e ce ne viva 12 però se stava a metto e mezzo a darci uno schiaffo a me ovvio ovvio ma lui ce doveva solo provare lui ovviamente fermati però che danni ci vanno i miei sovizi che mi fanno così per darmi uno schiaffo e dammelo se alzi la bottiglia è l'ultima cosa che fai siamo alle 16 di domenica pensate cosa può accadere Fabio De Luigi dietro guarda come salite quello dietro si è un prete che c'è al collino era autista ma sai che avevo flashato avevo flashato un prete si vedeva un po' meno bianco a mezzanotte a luna di notte luna di notte se ci arrivi qua vanno a luna di notte vanno a piccassino al poveritto ciao è più pericoloso termine a mezzogiorno che un quartiere di periferia qualsiasi per parte d'italia ma poi sono proprio arroganti prepotenti poi manco permette di passare là e guardare che ti dicono te sputano i tagliampe i tagliampe senza telecamera senza niente ma io guarda io cosa sai che farei io spengerei la telecamera e risolverei il problema se fosse per niente ma raga porca madonna no allora ditemi se questa persona è seria e va perseguita il tizio col cappellino sarà abbastanza serio è seria questa persona io che cazzo secondo me si perché insiste cioè la quarta volta risolvere cioè risolvere vuol dire uccidere quella persona in modo che non possa più lanciare bottiglie è sbagliato risolvere progressione sbagliata oppure secondo il codice della strada il codice della strada quelle cose di giustizia privata risolve la cosa telecamera è spente schiaffo educativo la retorica dello schiaffo educativo consiglio impaurisci cosa significa o schiaffo educativo nessuno gli ha montato la telecamera nessuno risolverei il problema se fosse per me senza telecamera senza niente ma io guarda io cosa è che farei io spengerai la telecamera risolverei il problema se fosse per me eh vabbè nessuno gli ha montato la telecamera un attimo che fa nessuno che fa abbiamo portato un esponente diciamo del nostro canale magari non lo sa lui capito ma che vuol dire c'è una telecamera a mano hai muo visto con l'ombra è vera grossa no vabbè però che stava a riprendere lì Cicalone no no la ragazza sempre ah ragazza vabbè magari questo l'ha detto un buona fede eh ma non lo so magari stava a riprendere i piedi che cazzo ne sa ah dice nessuno ha ripreso sì vabbè ma c'è una telecamera grossa così quello la cazzara sono arrivati con la telecamera a fare proprio la classica camminata cioè l'abbiamo visto cinque minuti fa sono stati ripresi quindi sono stati ripresi non è vero basta andare indietro per vedere per cortesia sono stati ripresi io sto dicendo magari questo tizio che ha parlato adesso e Chad su questo magari stava guardando il cielo in quel momento non è che può sapere come sono uscite le riprese lo schermetto è vero sono d'accordo magari lui non l'ha visto però quello che vuole di lui è che questi ragazzi quelli che stavano sdraiati che hanno tirato la bottiglia non la potevano a vedere sta telecamera cioè mi pareva di aver capito ah tu dici da parte la telecamera non si vede ah ok 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 no no certo certo noi eravamo senza ci hanno tirato la bottiglia no 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 chiaro chiaro non è vero ok ci sto passando a 20 metri in una città che è la mia ma che c***o vuoi e poi no mi viene a dita le c***o e qua non ci so per quanto a me non me ne freghi a città mia se può dire che è un soggetto no ma veramente se può dire o non se può dire è quello che si scrocchia guarda guarda suoi che giro e poi no mi viene a dita le c***o ma si devi essere sempre pronto a dare mi dispiace ma mi fanno troppo ride queste cose devi averci sempre le nocchie belle scrocchiate regola chad numero uno guarda ce l'ha detto oggi franchino si devi avere sempre le nocche scrocchiarelle perfetto bravo e qua non ci so per quanto a me non me ne freghi niente non sono una persona patriottica tra i vari casi che ci stanno qua termini hai visto qua che ha fatto lei ha detto no perché a me poi sta cosa mi dà fastidio che questi te dicono pure che questa l'Italia che qua alla fine io poi non so patriottica però taglio non lo sapremo mai che c***o volevo dire che non lo sapremo mai è solo intuibile purtroppo no è una persona è una persona sola che non parla mai con nessuno dorme sempre nello stesso angolo nessuno è riuscito magari neanche a comunicarci allora adesso arriva l'inverno adesso sta qua buttato e tutta una serie cose come fai a gestire una cosa del genere ripeto in pieno centro di Roma alla stazione dove arrivano tutti poi un'altra problema sta proprio qui adesso andiamo su sto marciapiede qua qui c'è un'altra signora che sono 3-4 anni che dorme sul marciapiede con tutti i bagagli praticamente tutta la roba i cianfrusaglie c'ha dietro si c'ha tutti i valori ce li ha tutti qua sul marciapiede c'è attenzione a un sacco di cose questa ci siamo passati accanto santo cielo l'ho vista sul video santo cielo prima delle cose tra la signora il ragazzo che l'ha disturbata la signora che è caduta prima non c'è provvidenza sociale poi non c'è attenzione alla salute mentale ai disturbi mentali perché uno dice quello è bravo quello è cattivo è gente che ha disturbi mentali ci starà pure qualche c***o che magari dice la signora sta là nella casa di cartone perché non si è fatta una vita non ha provveduto a se stessa ma anche la signora c'ha problemi alla testa ma la signora ti può dire quello che vuole ti può dire questo quell'altro la realtà è che tu una signora che sia sana non sana meritevole o non meritevole a priori tutti hanno diritto a un tetto sulla testa cioè non c'è un'opzione perché una signora di quell'età possa stare in una casa di cartone a termini ma lei è quella che poc'anzi ha detto io ho la casa e tu no è lei? si e mo sta a fare scorsa chiunque dovrebbe avere il diritto cioè del tetto sei una signora anziana però poi aggiunge infatti si capisce tutti sei una signora anziana vabbè posso dire che provo profondo imbarazzo profondissimo non sto scherzando no no è vero andiamo avanti qui sono anni che sta signora sta qua non parla quasi con nessuno io non ho mai visto parlare con nessuno e questo è tutto il suo avere questo è un marciapiede cioè questo è un marciapiede della fermata ovviamente vedi lei lava le cose le asciuga qui tiene tutto fermo magari con le bottiglie d'acqua e vive veramente in una difficoltà estrema tantissima 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 volte lei o zo non parla proprio lei ha la spazzatura sa fare anche più però ragazzi no su questo però sto d'accordo con Simone nel senso magari con la clochard della signora all'inizio ci avevano già parlato magari fuori dalla videocamera si conoscono bene o male lei è d'accordo perché hanno pure raccolto soldi esatto lei magari è d'accordo su la signora perché vogliono aiutarla come successe pure alla zanzara quando comprarono un camper ad una signora con una colletta però cioè tu qui passi davanti a una persona in una condizione ovviamente di disagio estrema e la riprendi veramente così solo fondamentalmente per che ti costava censurare un minimo vuoi sensibilizzare vuoi fare delle raccolte fondi bellissimo però le pubblicità a progresso che vediamo hanno o attori o persone che hanno dato il consenso giusto save the children eccetera servono ovviamente per incentivare questa cosa ma non è che tu vai lì e scegli per loro anche perché poi aggiungo un piccolo dettaglio ci sono molti molti una piccola parte di clochard che invece hanno scelto appositamente di fare quella vita quindi magari non vogliono non vogliono essere aiutati vecchi di famiglia ma nei racconti qua c'è stava pure un tizio che per dire ha detto io l'ho scelto ma perché prendo talmente pochi soldi vabbè ma per un'altra motivazione esatto è un'ipotesi però per dire però che tu preferisco più stappe strada ma avere più soldi che magari che per dire se poteva mettere in affitto però dice preferisco più magari spendeli per altro ci sono una piccola parte però è per dirvi che un conto è i motivi più disparati c'è stato un sacco di persone che sono proprio dei nomadi per scelta sei sicuro assolutamente ci sono un sacco di documentari è anche interessante è un fenomeno anche più grosso in America per esempio però al di là di questo è per dirvi che non andrebbe ripreso il singolo Into the Wild ha fatto tanto Into the Wild si era più una cosa legata magari alla natura invece c'è proprio gente che abbraccia questo stile di vita sì diciamo che ha dei tratti in comune cioè per uscire fuori dai vincoli della società le imposizioni eccetera anche persone sì benestanti comunque al di là di questo il punto non era la percentuale minima perché immagino a termini nessuno sia per scelta credo comunque pochissime per dire che bisogna andare dal singolo e riprenderlo molto spesso senza il suo consenso ma un conto è dire facciamo una raccolta fondi per clochard anche dei termini specifica per carità o per associazioni di un certo tipo e poi le destiniamo a chi ha bisogno no che tu prendi il caso singolo lo spettacolarizzi per far più views mi dispiace però è quello raga non conto se ci parli prima quella persona è d'accordo sì mi voglio far riprendere perché effettivamente voglio una mano che me frega ma poi c'è modo in modo c'è proprio a livello tecnico non è difficile come cosa ti metti con te l'obiettivo da lontano se poi lo devi fare lei sfogata dietro ma basta censurare ma non dicevo un cazzo a censurare ma io ci mettevo tre secondi di ecco Sony Vegas ma non sarebbe questo prodotto questo prodotto è proprio che loro vanno là e tu stai là dentro insieme a loro non è dignitoso pure l'inquadratura a livello tecnico come vedrete sono delle inquadrature che proprio ho zero dignità con lui che sta là ma pure adesso ragazzi scusate sì la panoramica cioè sta persona che sta piegata nei rifiuti eccetera riprendi il culo cioè raga non mi sembra una cosa assurda e viene sminuito di ma non capisce non ti preoccupare ma poi non lo sai ma magari non sai ma magari non vuoi parlare non conosci la sua lingua non ha intenzione a risponderti ma tu non lo puoi sapere poi magari ripeto la glochard all'inizio ci avevano già parlato ci parli un attimo se vedi che è d'accordo e vuole fare un'intervista anche perché se parliamo di giornalismo documentari documentari e cose di questo tipo ragazzi cioè ci sono delle anche lì delle procedure cioè quando registri un documentario a meno che non si tratti di animali e anche lì ci sono dei limiti tra l'altro addirittura anche quando entri in determinati luoghi non puoi riprendere figuratevi anche per un'opera d'arte perché magari si può rovinare una cazzata figuratevi con una persona no? ovviamente devi rispettare questa cosa comunque se ci fossero delle regole anche per quanto riguarda riprendere gli animali farebbe molto ridere ci sono e qui cioè quindi non vengono rispettate neanche quelle degli animali che in certi habitat ovviamente in certi habitat tu non puoi calpestare il suolo con che ne so determinati veicoli non puoi fare rumori di un certo tipo non puoi utilizzare flash ci sono molti safari o in altre in altre specifiche certo ha più diritti quindi anche il cacciatore ha più diritti un cerbiatto che deve essere ripreso con un documentario che è un barbone a terra ma arrivano più diritti però anche lì per esempio io l'avevo già raccontato il buon Bruno Bontempi il padre di Barbara ai tempi faceva il cacciatore e loro c'erano delle regole ferre poi là si tratta di ucciderli per un altro discorso però hai comunque regolamentazioni perché puoi rischiare di rovinare degli ecosistemi quindi sì esistono esistono sono accortezze comunque ne manca falla apposta mi hanno linkato il video che stava di Simone prima quello là che aveva visto sempre una cosa e mi hanno segnalato sia qual è il video e sia che era successo così mi dici sarà quello che gli metteva una mano al collo può essere ah sì me l'hai fatto vedere può essere che era quello quel video là eh sì ok ok mi ricordo gli veniva messa una mano al collo diciamo al clochard sì sì ho visto in un altro video vedi non parla proprio lei ha la spazzatura vedi cioè lei lei riattacca la spazzatura tutto bene signora oh vedete che ti parla no ma non parla lei lei non parla con nessuno ci abbiamo provato già in passato ci abbiamo provato in passato è proprio probabilmente anche qualcuno gli ha dato fastidio io la capisco oh ti ha fatto pure battere ma che cazzo riprendi ma la cioè l'ha pure detto già ci ha provato in passato non mi ha risposto e vai là e la riprendi e parli di lei attaccata a lei oh è l'esemplare oh ma guarda è quasi più grave questa questa è così quella è colì ognuno ha le sue cose carine le sue ma c'è una lore c'è una lore ci stanno sono conosciuti coi nomi ma perché comunque ce ne ha fatti tanti lui dei video sono dei personaggi tu lo vedi dici vedi c'è Alfonso vedi c'è c'è capito Gianni sì ma l'attore l'attore sceglie di comparire all'interno di un film infatti in quest'epoca siamo tutti attori e non attori di tutto e niente no e quando crea un format si creano già da sei personaggi solo che la gente secondo me magari se non respira quest'aria e magari fruisce solo manco se ne rende conto credo non lo so tu hai secondo me detto la cosa principale Simone purtroppo per una fetta di persone privilegiate come noi privilegio inteso come diritto anche ad avere un cazzo di detto sulla testa questi sono cittadini di serie B hai detto tutto l'hai già descritto per loro non sono loro simili sono animali effettivamente sì sì è questo è questo perché tanto chi se ne frega del loro diritto della loro dignità ma tanto sono clandestini ma tanto sono barboni ma tirano le cose ma tanto stanno umbriati ma che gli frega sono effettivamente non capisce il cazzo sono non persone esattamente come il forum dei brutti quelle donne ragazzi è così è così ragazzi c'è poco da fare e purtroppo ho letto spesso anche commenti di questo tipo sotto video similari o comunque dove si faceva anche video amatoriali di gente che caricava a caso su youtube sotto questo era il sentore purtroppo e in questo format io non ho avvertito quasi mai il tipo di sensibilità che uno ci dovrebbe mettere allora samanta zero proprio samanta 90 invece di dire stronzate verifica prima ma quando io non ho fatto la live vrl di datare scorso ripendeva le persone per strada ma non diceva nulla abbiamo fatto una live con una persona che aveva criticato quel format io stesso ho detto esattamente le stesse cose andatevela a vedere parliamo di questo argomento qua e lì c'eravamo di mezzo noi sì 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 e c'era una persona che mad mitch tra l'altro e criticò alcuni punti critici effettivamente problematici di quella live e in realtà siamo stati d'accordo su quelle cose quindi informati prima di mettere in dubbio la mia onestà intellettuale perché mi fa incazzare come una besta questa cosa te lo giuro per l'impegno che ci metto giornalmente anche autoscammandomi autosabotandomi tagliandomi le gambe proprio mi manda quello che mi fa una robbia vabbè mi fa diventare costante e no perché è tipo il quindicesimo commento che scrive tentando di di inlordare la nostra figura andiamo dietro i cinque secondi ci abbiamo provato in passato è proprio probabilmente anche qualcuno gli ha dato fastidio io la capisco lei lo vive come un suo territorio sto marciapiede non è lo stato d'animo giusto sei venuto stai qua sopra nessuno dice niente io non posso sostare non ti posso dire neanche buongiorno non è lo stato d'animo giusto ma io potrò capito no lo decidi tu quello è lo stato d'animo che deve avere un senza detto è incazzato pure con quello si perché gli hai risposto male gli ero tutto il culo capito al maschio alfa ma perché tu comunichi con le persone che ha la telecamera puntata mentre quella sta assiste ai mai panni tu fai così oh mi hai detto manco buongiorno una condizione del genere poi dai ragazzi è una vergogna chiunque veramente è in grado di difendere questa mondezza per me ha dei seri problemi con il concetto di civiltà e di rispetto cioè che tu stai a ragionare con una logica non c'è logica uno dovrebbe prestare attenzione alla salute mentale è la salute mentale non è che tu puoi stare a dire questo è un marciapiede è solo pubblico lei non capisce nemmeno dove sta arrivata a questo punto no capisce è marcesi no no ma chissà perché c'è finita come c'è arrivata cosa le è successo no ragazzi è un discorso sacrosanto della ragazza certo dici cinque minuti prima hai detto l'opposto a quelli però ha ragione è un discorso giusto ovviamente un po' così dozzinale pure prima ha mischiato pensioni con sussistenza però vabbè chi se ne frega il concetto è giusto cioè tu non sai la condizione di quella persona mentale la vita che ha avuto il trascorso ve lo dico perché la conosco già da tempo lei non connette col mondo cioè lei in questo momento è come se stesse nel giardino di casa sua vedi il fatto che lei prende della spazzatura e la tiene vicino a lei è veramente problematico cioè ti dimostra ma perché la riprendi perché la riprendi e parli di lei in cinque persone a un metro di distanza ragazzi ma veramente vi rendete conto che questa cosa è terrificante avete visto qualcuno volò sul nido del cuculo dovreste ma al di là di questo no se non c'è neanche l'attenuante del pericolo e questa è una persona che evidentemente non sta bene e se fai i cazzi suoi si occupa il suolo pubblico ok chiamate qualcuno se volete far sgomberare va bene ma che è ma che è è lo zoo safari ma cos'è sto sciagallaggio terrificante ragazzi safari della povertà l'abbiamo chiamato cioè vedete questa c'è stacca la testa guardate che matta oh io veramente mi stupisco tu caga questa mi stupisco mi stupisco cosa mi dai lo stai chiedendo Marco il barbone caga là vediamo ma ha cagato è proprio tantissimo adesso lei ha messo così perché piove quando non piove c'ha tutto a vista praticamente e si vede proprio un'organizzazione strana però della spazzatura cioè lei a un certo punto c'ha busto di spazzatura c'ha cose che sono andate a marcire che gli portano da mangiare il mangiare marcisce lei non lo mangia tutto però se lo tiene è una sorta di accumulatrice seriale sul marciapiede della stazione è uno dei casi è uno no veramente marciate lo dico perché pure lui tante volte quando veniva all'inizio certe cose ormai si è imparato però lo volevo no io però lo volevo mostrare sto caso adesso non per andare contro la signora esatto guarda no no ma guarda quanti turisti questa è una cosa no ma non è non possono passare tu passi qua vedi sta situazione e nella tua testa dici oh ma Roma come funziona ma è possibile che a Roma una signora straniera italiana che sia perché noi della nemmo intervista beh ci fa brutta figura coi turisti tedeschi che stanno andando all'albergo a 5 stelle a piazza repubblica ma vaffanculo magari qua l'abbandoniamo nessuno l'aiuta io ho sentito i turisti se trovano vabbè spero italiana questa è straniera no ma non è impossessa ragazzi per me il marciapiede se lo potrebbe ragazzi vi dico una cosa per me il marciapiede io ho capito i turisti hanno dei problemi poverini il marciapiede il problema è che non può stare sul marciapiede per lei il problema è che noi andiamo a dormire sotto un tetto e lei rimane a dormire qua questo è il problema ma anche se lei ho capito bene cioè ragazzi ragazzi veramente no ragazzi veramente 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 allora qui secondo me Cicalone a questo punto non si è neanche reso conto di tutte le implicazioni problematiche della ripresa nei confronti di questa persona cioè ci credo ripeto anche perché lo conosco calpesti la dignità di una persona ma non te ne sei reso conto anche col discorso finale no ma cioè adesso il problema è diventato la disparità dettata dal colore della pelle con sta faccia qui cioè è riuscita a infilare la stronzata razzista di merda a me mi ha fatto ridere ma perché questa andò sta a scemo no no sta in mezza una strada non ha detto questo Davide a me mi ha fatto ridere ha detto che il problema della signora è che non c'ha una casa allora ha detto ha ripetuto il discorso che ha fatto prima la tipa moralista ma a me mi ha fatto ridere il fatto che chiede conferma non c'è il dubbio ha detto solo ascoltami lui ha detto il problema è che lei non ha una casa e noi si quindi la frase dovremmo dare la casa a tutti i barboni no quindi fa no e mi ha fatto idea il no come se a me mi sembrava un'altra cosa ho fatto video a termini che stavano a intervistare persone che non c'hanno una casa mi sembra capito che il problema sia che la signora non c'ha una casa che chiede conferma sembrava fatto morire perché noi alla fine andiamo dentro la casa stanotte lei no o no giusto no ma se è così è tipo scemo più scemo eh ma fa non credo mi metti dietro ma mi pare che il problema è che non può stare sul marciapiede per lei il problema è che noi andiamo a dormire sotto un tetto e lei rimane a dormire qua questo è proprio il problema ma anche se lei ci avesse un tetto o no giusto o no mi scusa avevo capito male io avevo capito male io era meglio per lui calcolare no io poi avevo capito punta in un tetto errore mio mea culpa però vabbè sì era meglio no no così è comico no 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 così è involontariamente comico ma non problematico errore mio ho sbagliato io scusate ho confuso un termine è più comico sì è un'altra cosa non ci credo ma lei no ma l'albergo lì dietro l'angolo sta lì il town questo è il lobby questo è il suo hobby anche un'altra cosa anche un'altra cosa è un'altra cosa lei dorme proprio qua sì lei passa scusate ragazzi lei passa 24 ore qua giusto il tempo ti andrà a fare i bisogni lì dietro lì guarda va cagata allora spesso spesso vanno là sotto vedi faccio la lei neanche parla più con noi adesso lei fa così con la mano ecco con la mano indietro perché faccio cazzo lui qua dice lei caga qua e lei gli fa un gesto come direte rotter cazzo è 20 minuti che state qua in dicamera di quello che faccio dalla mattina alla sera io morivo dalla voglia di sapere dove cagava questa signora allora va a cagare che lo vedi quell'angolo vedi che c'è quello scorso di luce dovrebbe cagare sull'angolo sinistro interessante da quello che ho capito che l'ho visto sul suo video numero 3 di Termini ah ma no ma se me l'avete capito cagate criminali cagate criminali c'è tutta una sezione 13 minuti lei neanche parla più con noi adesso lei fa così con la mano andare cioè non ha capito manco di che stanno a parlare e dice che non ha capito di che stanno a parlare no ha capito si è lamentata proprio perché ha iniziato a dire addirittura do caga e lei si vede se mani indietro se vede che lui dice lei caga là e lei fa vaffanculo e basta se ci fai caso se mani indietro non lo puoi sapere con certezza non lo puoi sapere con certezza ma da per scontato che lei non capisce esatto ho sbagliato darlo per scontato e poi di quello che vuoi davanti a lei spesso ah vedi ecco vò qua o avrà sentito che stanno a iniziare a parlare dei suoi bisogni come fosse un cazzo di animale oppure l'ha fatto a prescindere andatevene proprio ma in ogni caso comunque è legittimo capisce se tu dici andatevene certo non ha capito manco di che stanno a parlare è quello che mi dispiace è uno dei casi secondo me che andrebbe veramente affrontato è sbagliato ripeto sembra tipo il film con l'alberto sordi che vanno a fa il safari guarda che bello il cinghialino guarda col ditino senza turbarla ulteriormente perché poi tanto vedi sotto ha messo pure le buste ma guarda che ti dico ragazzi è tutta immondizia immondizia ogni tanto lavo un calzino una maglietta però veramente preoccupante sta cosa per mangiare mille euro mille euro mi ripeto rega ma non lo so magari avranno raccorto dei soldi per sta signora però vi ricordate che anche con Riccardo Dose sollevai dubbi del genere dove inizia l'impegno sociale dove inizia dove finisce l'impegno sociale dove inizia altro e soprattutto è possibile farlo senza calpestare la dignità o perlomeno tentando di interpellare una persona non è in grado di intendere di volere e allora non devi mettere bocca non puoi interfacciarti con persone con patologie perché non sai come gestirle no? non lo so poi ripeto io non ho dubbi sulla buona fede di Simone per l'amor di Dio sugli altri sì ho dubbi non ho certezza ho dubbi e mi scuso per l'errore di prima ve lo ripeto per la quarta volta scusate lì ho sbagliato io per l'amor di Dio però ragazzi è brutto dai veramente cioè addirittura parlare dei bisogni cioè proprio la cosa più vicina a ciò che noi non vogliamo mostrare agli altri indipendentemente dalla comprensione di quell'individuo tu la certezza non ce l'hai non hai la certezza non sai se ti capisce se non ti capisce è brutto dai è orribile poi la raccolta fondi è per non questa signora che hanno fatto vede fino a mo ma per un'altra per quella prima sì sì quella signora che stava a dire che gli arrivavano fuori era quello che si abbassava i pantaloni la crociarda iniziale no ma questo secondo me vale un po' per tutto indipendentemente poi dall'intento tutta la monetizzazione di questo video sarà destinata ok però secondo me anche quando c'è un fine virtuoso certe cose sono inviolabili ragazzi grazie vede un po' qual è la situazione bravo bravo simone bravissimo anche in carcere l'unico momento di privacy e intimità è nel bagno bravo hai preso l'esempio perfetto cioè il carcerato quello che per definizione è considerato la feccia della società da molti da molti cioè molti dicono questo sta in carcere non è come me quando ripeto che i diritti rimangono invece gli stessi anche lì anche nelle carceri esiste un problema legato alla dignità dell'individuo e infatti anche i radicali spesso nel corso degli anni hanno fatto delle manifestazioni delle lotte eccetera per garantire anche questi diritti ai carcerati il problema del sovraffollamento della mancanza di intimità poi senza contarli abusi delle forze dell'ordine e lì parliamo proprio di altro però di un diritto anche all'ultimo a quello considerato come l'ultimo della società ci sono posti nelle carceri che cagli davanti a cinque passi no no ma infatti è per questo che ti dicevo i radicali con Pannella Labonino nel corso degli anni si sono anche battuti non solo loro però si sono battuti per questo aspetto qui poi ci sono nazioni ancora diverse cagliate certi sì certi no infatti non a tutti ragazzi si sono spostati praticamente buona parte delle persone che stavano a termini la signora chiedi un po' come sta salve signora buongiorno salve tutto a posto come sta ma se ne è fatta nuova la tenda questa è nuova credo un formissima stamattina già questo è diverso stai lì te ci approcci tranquillamente vedi che è ben disposta e non c'è nulla di problematica con questo questa è la maggior parte delle volte accaduto questa è la perla che dicevo prima questi due minuti sempre sono tutti medesimati possibili non c'hanno che inventarsi per qua stare qua nel senso per tenermi qua del resto senti mi è calata temperatura fa più freddo questa già la conoscevano tra l'altro guarda guarda l'acqua c'ha anche da mangiare gli hanno portato tutto l'ana ce l'hai la lana per la notte guarda preferisco un altro tipo di intervista perché non sei credente perciò già ti chiudo qua io sono cristiano lui è l'unico credente io faccio sempre il segno della croce sono battezzato io sono cristiano ortodossa cristiano ortodossa ho anche due lettere perciò un passo avanti per quanto voi sapete dei miei dossier qua cosa io ho trascorso qua perché non è facile parlarti in maniera di registrazione a dove non conosci a dove io ho preso parola con tutti i presidenti d'america medesibur discendenza e tutto c'è una canna per caso una canna ecco bravi non avete messo pausa meno male un po' volevo dire il tempo è stato perfetto questo è bellissimo sì c'è una canna io ve lo so grazie grazie ecco questa è con quella va bene pure è bella coperta da mangiare non c'è qua c'è solo questa ma solo la coperta sì ma solo quando io sono al mio potere padre maria perché lei è una l'alimentazione della peata vergine maria sempre certo un dossier o un dossier dai presidenti d'america dalla cina l'europa tutto ho iniziato con facebook il video ce ne prega niente ma questo questo signor o signora chi è? è una marca una marca francese wow signora marca francese senti sai che ti voglio bene no ma non arriva qua matti aspettate ragazzi allora qui è per far vedere un attimo qual è la situazione sono aumentate drasticamente le persone è aumentato anche lo sporco il traffico le tende di tutte guarda c'è gente che sta proprio lessa questi sono questo è lo stesso questi sono i stessi e il sottopassaggio raga molti molti che stanno qua sono quelli del sottopassaggio quello nella tenda è lui è lui è quello che stava sdraiato sul muro sì poi vedi ma c'è una cosa che dicevamo no ma al di là di tutto queste sono delle panchine questa è la via che comunica tra San Lorenzo e l'università qua molte ragazze c'è il ragazzo che ha appena passato è un ragazzo che sta attraverso una strada così sì sì ma qui molte ragazze da lunedì al venerdì passano e fanno questo percorso qui allora al di là delle panchine al di là dello sporco al di là de tutto praticamente questa è una situazione che ti puoi ben immaginare no una ragazza impossibile ma non perché la devo non molestare no no non necessariamente però comunque è un disagio sociale però se io ho bevuto se io passo qua se io vedo una situazione del genere la tendopoli vedi non so uno non so due non so tre ma so cinque già sta parte del video c'è poco da aggiungere nel senso è quello che dicevo prima in apertura in risposta a Simone cioè qua fai vedere uno spaccato effettivamente una parte di Roma in cui c'è questa sorta di tendopoli abusiva da abbandono una zona completamente abbandonata esatto l'interazione che hai avuto con la signora tranquillissima già la conoscevi io ho visto quasi tutti i video con questa impostazione non problematica per me non problematica assolutamente no no anzi molto interessante sulla maggior parte dei video è molto interessante anzi i primi 15 minuti sono stati ma che scherzi i primi 20 minuti sono stati un inferno è vero pure che loro giustamente sono gentili dipende tutto dalle persone che stanno lì se sono aggressive comunque lì degenera però è vero pure che uno deve accettare devi sottostare al fatto che lui entra là in mezzo a tutte queste persone con la telecamera ti riprende mentre dormi e quindi dipende da come reagisci te te devi sottostare a sta cosa comunque perché se te incazzi passi da parte del torto comunque quello è il fatto se lanci una bottiglia se te metti a urlar si diceva attene perché comunque un luogo pubblico uno quello pensa però è vero pure che non lo so questo volevo un attimo ragionato che pensavo vivere a Roma fosse figli come sa che resta l'Ivur ma sono zone di degrado sono zone di degrado che ci sono in tantissime città e come diceva Gianluca c'è una città talmente grossa è che Termini c'è la più grande Caritas di Roma la vicino quindi trovano pranzo e cena ma sta proprio attaccata a Termini sta letteralmente attaccata a Termini ed è sovraffollata infatti molte persone poi le mandano subito via ma è una cosa penso che l'hanno pure parlato comunque comunque ci sono scriviti che ha fatto pure un video di risposta alle critiche Cicalone non lo so poi me lo vedrò ce lo vedremo privatamente qualcuno dice sminuendo le critiche non lo so non l'ho visto non mi esprimo no 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 questo è quello che dicono in chat è invitato anche per parlarne poi penso che verrà contattato io provo a mandargli un messaggio anche con gli altri ragazzi volendo sì per me sì magari in collegamento basta che mutite sennò poi no 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 io io Davide Marra sono d'accordo farei venire anche il Fugile Fugile il Fugile ancora Fugile no 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 ai tempi stavano pure adesso ancora Fugile sì 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 e anche l'altro ragazzo io onestamente mi caccherei sotto mi tremerebbero le gambe vabbè le potresti collegare io mi collegare è andata è andata da un bunker ti metti i baffi vinti la parrucca oppure mi collego da Termini e passeggio basta che fa venire anche la controparte è un po' difficile terra magari qualcuno si è sempre il signore ragazzi buongiorno buonasera buongiorno ragazzi buonasera buonasera buongiorno tutto bene ciao ah lui è il bolle originale chi è? è sempre lui buongiorno tranquillo è buongiorno quante scusa? 5 volte ha chiesto scusare tu mi dica di scusa sta giù sta giù sta giù perché le ragazze altre ragazze non parlano italiano solo io l'altra persona parla italiano adesso dormire ma ci hai chiamato tu vai vai ciao 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 no no ah no guarda c'è ragazze vieni stare rilassato vieni stare rilassato vieni stare rilassato terapea guarda terapea qua lui dice io prendo terapia perché io ho pure lavorato con i ragazzi spesso con chi mi da tante varie nazioni un po' riesco a capire l'accento non so se voi non lo capite o capisco meglio io però tanto spesso molti non lo capiscono lui qua ha detto io prendo la terapia quindi lui è uno che ha disturbi mentali proprio lo dice chiaramente però mi pare che non lo capiscono loro quelli di questa via io le ho visti anche in un altro video sempre quello che citava prima Gianluca e si incazzano perché gli riprendi dove loro vivono anche se gli riprendi le tende ed è giustificato che loro si sentano a disagio se qualcuno riprende il loro accampamento penso dei più vecchi istinti umani se ragioniamo tanti tanti anni fa vivevamo un po' tutti in una situazione del genere ma non è che era un terreno che ti apparteneva però magari se uno vieni lì tu ti senti mi gracciato perché quel luogo per te è casa quindi io l'istinto umano non mi sento di condannarlo appunto milioni di anni fa erano sti cicalone che invadevano le tribù per me questo format a sto punto è dannoso a prescindere sul nascere non mi piace per niente crea problemi crea disagio crea cioè è vero che mette in mostra fa tante altre cose a livello però alla fine rimane uno show rimane un format su youtube monetizzato che fa più danni che altro cioè il mio bilancio mentale è più sul negativo per l'effetto che fa nel mondo sì diciamo diciamo è molto complicato è molto facile che scada in qualcosa di terribile è facile ma il solo andare lì e dire buonasera cioè ma che siamo scemi ma si capisce cioè che è una sorta di no di oh se mi arriva di noi no cioè e poi al minimo cenno che uno dice subito ci si attacca con no devi staccarmi però non ti ho detto niente devi staccarmi è un giochetto molto facile da fare noi siamo i buoni siamo venuti a aiutare sì sì e rimani sempre dalla parte paracula dei buoni a me fa cacare tutto questo rimetto la postilla non sarei così tombale in generale sul format non su questo video perché il format è terreno fertile proprio per queste cose hanno trovato una miniera d'oro nel degrado questo è ciò che penso io in quanto content creator cioè qualsiasi content creator cerca quel tipo di nicchia o quel tipo di settore che da mungere ok in questo caso se io fossi uno spietato content creator penserei ho trovato una zona che possa proprio spremere di contenuti all'infinito rimanendo sempre nel modo paraculo dei buoni circondandomi di gente che fa le cose al posto mio quelle grevi proprio una cosa creata ad hoc che ripeto porta solo a problematiche piuttosto che a soluzioni perché di soluzioni a parte giri di parole e qualunquismi non ho sentito un bel cazzo di niente vedo solo prepotenza e proprio schernimento di una categoria già ai margini della società trattata come animali poi non ho altro di nuovo da dire c'è un'etica assurda diciamo per lavorare in un contesto così complicato una situazione così ai margini sì ci vogliono ripeto il fatto che esistano dei codici deontologici non solo serve anche per prevenire alcuni aspetti problematici io però sono anche curioso di sentire Cigarone su questo perché credo che qualcosa di buono sia accaduto cioè raccolte fondi enti mobilitati lo spero vivamente quindi ripeto questo video è terrificante su tutta la linea in tutti i video che ho visto anche da Gianluca dove quello veniva preso per il collo non ho sentito la minima minimo rimando a enti a raccolte fondi o cose del genere tu Gianluca non lo so chiede hanno ripulito delle zone però una raccolta fondi che ho visto io è su quasi quella che stava di prima sulla quella che c'era i token abbastanza simpatici da poter suscitare empatia nello spettatore medio perché pur mantenendo il bias razzista o comunque classista più che razzista che appunto sono cittadini di serie B perlomeno c'hai la nonnina c'hai la clochard che ti ricorda un po' tua nonna nella quale puoi al minimo affezionarti e dagli quei 5 euro mi fa schifo tutto ed è tutto questo marcia più sulla divisione che sulla vera voglia di risolvere un problema però più perbenisti in realtà non è perbenismo questo anzi forse a tratti ho visto qui del perbenismo spacciato per alto esatto se vogliamo questo che diceva Simone per esempio è più ripulire la coscienza non tanto cicalone quanto banalmente quello che dona cioè lui è lui in questo caso la clochard è la persona grazie alla quale mi posso ripulire la coscienza perché è meno merda delle merde dal mio punto di vista è più accettabile ok poi ripeto non va paragonata con quelli che tirano le bottiglie perché magari quella effettivamente non ha colpe però riesco ad avvicinare quella persona a me altri no la ragazza lo dice proprio quello che hai detto te più avanti la ragazza gli dirà proprio a sto ragazzo io alla signora l'aiuto ma a te non te lo meriti perché sei giovane c'hai braccia e gambe a te non vai aiutato poi a caso che lui ha detto sto in terapia c'ha disturbi mentali quindi va aiutato è lei che ha fatto quel discorso prima non c'è attenzione sulla salute mentale quindi il discorso che dicevi te è verissimo cioè sta ragazza magari in maniera più semplicistica l'ha detto chiaramente quello che magari come sottotesto ovviamente non riesce ad empatizzare con un ubriacone che te tira una bottiglia addosso o te molesta o te tira i pantaloni sporchi non è così facile ragazzi ovviamente però insomma è anche vero il discorso della tokenizzazione poi solito discorso pure ai tempi di Riccardo Dose con Michele 14.000 video su Michele io pure là ragazzi ero un po' nel senso è una buona azione sì lo sta aiutando sì però è importante il discorso che stava di Simone questa signora ha ricevuto soldi buon per lei sì ma noi sappiamo riesce veramente a rendere tutto questo virtuoso non lo so ma c'è bisogna calcolare che davvero Cicalone ha detto poi io voglio bene però ha detto se gli emeni a questi perdi solo tempo pure a menaglie tanto è gente che viva la giornata parlando del gruppo dei barboni ma è una frase che può dire l'importante è che abbia aiutato però aspetta Luca non funziona così secondo me allora il discorso è importante l'importante è l'aiuto attenzione però ragazzi bisogna vedere in che modo si soppesa quell'aiuto cioè se io per aiutare una singola persona come in questo caso calpesso la dignità di altre 40 secondo me non meritevole di dignità ho fatto più danni o più cose positive anche vogliamo buttarla lì discorso emulazione come successa ai tempi ripeto con dose poi ha fatto pure quell'altro poi l'ha fatto pure Ace sta roba che vai da crociar però quello è un discorso a parte ripeto che non è non voglio neanche responsabilizzare Cicalone su questo è una cosa che spesso avviene se sporti le mani aveva detto non me l'ho sbagliato ho fatto un'errata quindi non lo so cioè nel senso mettiamo sul piatto della bilancia una signora aiutata con 40 persone verso le quali non abbiamo nessun tipo di dignità perché noi abbiamo scelto che non la meritano in quanto matti in quanto crociar in quanto stranieri in quanto test di cazzo in quanto violenti boh non lo so ognuno poi si dia una risposta per qualcuno si per altri no scusate che rispondo che mi stanno a dire la vita reale chitano non è uno show doveva calmare quel tipo a parte che quel tipo l'ha portato lui e l'hiamo già detto seconda cosa c'è modo in modo comunque quello che dici pure se per calmare quel tipo lo vedono dei ricazzini ma questa è una stronzata è un show dal momento in cui lo lascio in video questa è proprio una cazzata non è talk show è la vita vera la vita vera ma tu nella vita vera vai con le telecamere e inquadrai i crociard nella vita vera ma che cazzo dici è una situazione che è stato scelto che si creasse cioè non è che loro in tutti i giorni il medico gli ha detto andate a termini con la videocamera quando succede ad un turista ad un passante è la vita vera non questo come fate a pensare che è la vita vera cioè volete dire proprio che non ci avete capito è un cazzo stanno a dire sti cazzi e termini non è il cerbero quindi ogni cosa va bene che cazzo c'entra ma che c'entra non lo so ma no ma allora termini fermiamoci un attimo questa cosa sarebbe stata giustificabile soltanto in una live dove tu vuoi intervenire sei preso dall'impulsività non sai come agire hai paura delle conseguenze ok nel momento in cui tu scegli di metterlo in video quella è la tua narrazione il tuo film basta non c'è altro errore hai sottovalutato quella cosa lì le conseguenze va bene si può sbagliare ma pure la tattichina iniziale del teaser no ti fa vedere mica ha messo la tizia e diceva non c'è abbastanza attenzione sulla salute mentale teaser dei temi trattati in questo video no c'era sì te becco ti aiuto io te do la sigaretta me lo devi dire per piacere mi dai che è una sigaretta prendila tutti lui c'ha tutto il braccio tipo una malattia o credo se si spenga le sigaretta addosso si no non c'ha la malattia se spegne le sigaretta ma tu devi spingere le sigaretta sul braccio sei te no che l'altra volta ti abbiamo aiutato e perché lo fai non dovresti farlo ti fa male il braccio ma che cazzo di domanda è e lei che ride ma che domanda è ma perché ti dagli le vene ma sai che ti fa male va bene basta senza la spegne addosso però guarda guarda ora devo far vedere si dice prendila lui babba prendila tutti prendi come stai caffè ma lui non era riuscito ad andare lì alla Caritas l'altra volta ti avevano fatto entrare time is finish lui questo signore tu lo vedi così ma lui ha quasi 80 anni se non sbaglio pure st'altra cosa è particolare perché se te non li riprendi poi quando li riprendi li censuri se no che cazzo abbassi a fa la camera sembra tipo il gioco dei splinter cell quando senti il è tutta una paraculata dall'inizio alla fine è per avvicinarsi è per iniziare un dialogo e creare le situazioni poi se sono violenti succede una cosa se non sono violenti ne succede un'altra c'è sta pure di avvicinarsi con la telecamera abbassata e poi quando vedi che c'è una situazione tranquilla la alzi è il modo più giusto si ma comunque non puoi pubblicarlo se non hai il loro consenso ma infatti è proprio sottovalutato tanto ragazzi penso che riescono a averci i soldi per gestire la causa è proprio per quello che se può fare sto format non ti succede niente ma lui vuole aiutare fai lo stesso reportage ovviamente non lo puoi fare perché non sono situazioni di degrado ma con persone non di serie B e te denunciano ma è ovvio no? per questo se può fare andiamo avanti l'avevamo fatto entrare dove sei? eh? dove sei? Roma tutti Roma italiano italiani sì guarda c'è parte africano eh c'è parte somalo eh e parte qua somalo italiano connesso la storia sì sì certo ma ridammi la sigaretta vai frendi si rimbiamo la sigaretta cosa si chiama? guarda Marcello no ma frate è 150 è sempre l'oggi volta così è 150 stai tranquillo no frega a me guarda c'è una sigaretta ma tu sei prepotente proprio ora finché sono delle fa una prepotenza così hai fatto guarda accendi la sigaretta ma uno è diventato prepotente non ho capito che ha fatto no mi pare che lui si sta arrabbiato forse ho capito male perché quello intervideggia a lui quando vede la telecamera che lei si avvicina eh non l'ho capito perché c'è un taglio zi non si è capito perché si è incazzata ma non è carino no ma regà ma che stiamo a giocare oh ma dammi stai a parlare al film però prepotente non c'è no inglese 12 12 12 persone no io solo italiano italiano e manco così bene eh per se dire verità vabbè dammi caffè dammi accendino dorme per strada una signora donne come quelle ok ma un uomo che ha fatto un viaggio è venuto da un altro paese ha intrapreso una strada ha scelto quello che ha scelto e non è che possa aiutare tutti comunque è un uomo in salute è un uomo con due braccia e due gambe si possono cioè priorità magari è una donna che si ritrova senza un tetto e fa un'età non sto d'accordo sul discorso live se puoi fare una diretta devi renderti conto di quello che fai e assumerti responsabilità però può capitare l'imprevisto questo dico infatti quando successe ad Ivan lui fece mea colpa lì fa in disclaimer con un altro video no giustamente ma Ivan è venuto in live per rispondere alle critiche alle critiche l'ha detto anche nella sua live ovviamente ha detto sì mi sono reso conto che effettivamente non era il caso però lì ci può stare perché dici oh sei live può capitare una situazione non programmata questo l'hai programmato è filmato e montato punto questo è il discorso comunque ci sta anche il discorso assurdo lei sta a fare un discorso patriarcato puro sentiamo poi donne e manco così bene te vestiti la verità dammi caffè dammi accendino dorme per strada una signora donne come quelle ok ma un uomo che ha fatto un viaggio è venuto da un altro paese ha intrapreso una strada ha scelto quello che ha scelto ha scelto e non è che possa aiutare tutti comunque è un uomo in salute è un uomo con due braccia e due gambe si possono cioè priorità magari è una donna che si ritrova senza un tetto e fa un'età pausa pausa questo è il discorso alla Salvini alla Salvini vecchio stampo parta caso con l'unico quindi la frase che ho detto prima sul razzismo cioè applichiamola qui non su quell'altra che era un errore vabbè una gag però è il discorso che faceva Salvini ai tempi ma questi uomini forti vengono qui scelgono di venire in Italia si pagano le navi hanno l'iPhone è esattamente lo stesso discorso grazie presidente è lo stesso identico discorso purtroppo è non lo so razzismo inconsapevole non so come definirlo consapevole perché non la conosco questa persona poi dicevo io salvà a questo punto aiutiamo una donna quando tu sei un uomo sei forte poi fa da solo quando invece ti ha detto poco prima e si vede palesemente che c'ha dei disturbi quindi tutti quanti gli immigrati lei ha detto la salute mentale bisogna aiutare dovrebbe tornare il patriarcato chiamiamoli clandestini utilizziamo questi termini tutti i clandestini o anche quelli che legittimamente scappano da situazioni problematiche guerre mancanza di diritti umani tutte queste cose sono per forza persone che devono essere in grado di badare a se stesse perché hanno braccia forti basta questo per sopravvivere no non bastano e poi la signora è bianca è caucasica e tutti gli altri no se c'era un signore non è il fatto dell'uomo donna ragazzuoli secondo me se era un uomo italiano bianco non si faceva questo discorso magari un signore di 60 anni perché ci sono anche dei signori di 60 anni neri che vengono trattati a pesci in faccia a cui questo discorso verrebbe tranquillamente applicato un signore che ci ricorda nostro nonno no è quello che vi dicevo ragazzi è purtroppo una cosa insida in molte persone l'abbiamo fatto questo discorso anche su Russia-Ucraina questo lo stai dicendo te infatti mi permetto di fare questo processo alle intenzioni di gente che ha una mentalità opposta alla mia no il discorso sull'empatia l'abbiamo fatto anche in relazione alla guerra Russia-Ucraina e io in primis dissi proprio io stesso mi rendo conto di essere un po' una merda e avere questo retaggio culturale chiamiamolo come vogliamo perché provo più empatia nei confronti degli ucraini di questa guerra qui rispetto ad altre guerre perché mi sono fatto questa domanda perché sono bianchi bianchi hanno magari sì componenti culturali occidentali sì hanno componenti culturali più vicini a noi e l'empatia è più semplice ti facciano pure come brutti e cattivi quelli dell'altra guerra eh non è secondo me non è neanche un discorso adesso colpevolizzare questa ragazza o meno però è un pensiero che va debellato perché alcune cose sono culturali perché poi è nato il razzismo fondamentalmente per una diversità anche estetica culturale estetica di tanti fattori adesso non parlo della ragazza però il discorso veramente è quello dei Salvini è identico ragazzi l'abbiamo sentito mille volte la narrativa questi sono forti vengono qui rubano il lavoro potrebbero andare a lavorare come tutti gli italiani onesti alcuni sì magari alcuni saranno criminali per carità sono tutti santi per l'amor di Dio cioè proprio eguaglianza è anche questo esistono criminali qui in Italia esistono in Marocco ovunque alcuni magari si approfittano di situazioni umanitarie di soluzioni umanitarie c'è tutto un mercato anche una mafia che tende a portare questi clandestini che vengono qui impropriamente per commettere illeciti sì certo che c'è però tu non puoi partire dicendo a prescindere no un uomo ha tutte le possibilità per uscire da questo contesto di povertà ma quando mai è bello per le donne non l'abbiamo fatto per loro 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 ci può gliacchierare io è bello per lui non lo faccio magari per il signore sì perché è anziano ma per lui no perché è giovanissimo lui sta meglio di me giovanissimo non giovanissimo lui vuole beve lui vuole passavita ci mancherebbe si sta ruinando era quello che diceva che sta in terapia non lo puoi sapere ma l'ha detto non lo ascoltano è un arcolizzato come ogni arcolizzato non è che decide di beve a lui o le fanno o lo aiuto non lo puoi sapere se vuole imbriere che ha a maggior ragione se parli di una persona con problemi mentali sì no proprio ignoranza pura e dare tipo lo standardo di difensore a gente di ignoranza enorme è follia lui sta meglio di me questo format è follia mi dispiace assolutamente ma immaginate pure questo ragazzo però bello le interviste nel quartiere mister Marra il quartiere suo bello parli di Roma questo format è una merda io devo andare ragazzi ho mio padre qua fuori che mi sta aspettando da mezz'ora purtroppo dai vai Marco vai pure tu quando ti pare dai questo video finiamo ma pure la cosa assurda questo qua troppo è tranquillo sto ragazzo pure con tutto che ha detto che è disturbato questi gli stanno a te ti aiuto perché te lo meriti quella aiuto a te no ma che vuoi ma chi te conosce perché sei venuto qua dimmi che non mi aiuti cioè troppo so tranquillo io quello come si riuscita in Italia ok se lui è potuto entrare in Italia è potuto venire in Italia tu quando lo fai entrare devi assicurarti di avere le strutture il posto di lavoro il posto per farlo dormire i documenti per metterlo in regola se tu lo metti in Italia che può fare come c***o fare o che può buttarsi via ti puoi buttare via e nessuno ti dice niente ci deve essere qualcuno che ti dice amico mio fai questo e fai questo devi essere indirizzato tu direzionato tu direzionati i ragazzi nelle scuole direzionate le persone e poi non vanno lasciate solo le persone alla fine anziane quando è finito tutto il percorso è proprio il problema più grosso dai ragazzi no no vuoi il caffè si lei l'ha spiegato la classica risposta semplice è un problema complesso vado bene no no vuoi il caffè il cappuccino guarda cammina va ah no no non si chiedono i soldi è grandissima no vabbè no votarei io proprio il cappuccino vai veletto dai basta dai basta devi solo due euro accompagnaci no che pina l'era dai allora il problema qua è che non è che qui non ci puoi passare ci passi a tuo rischio e pericolo vedi si ripagate a gente allora che tu abbia un telefono allora che tu abbia un telefono in mano che tu abbia una fotocamera se tu passi qualsiasi cosa mi sta bene non posso neanche passare io ma il problema è che deve dare non solo per me non andare via di qua che vuoi vivere questa vita ma questa non è vita infatti non è vita anche il nostro paese non vive questa vita ma noi non c'è anche noi porcognati per vivere questa vita non dare la verità che vive questa vita anche il nostro paese non vive questa vita il nostro paese non viene qua non vive questa vita lui non vuole vivere ha detto manca il nostro paese perché poterete fare sta vita anche nel mio paese ha detto ragazzi questa persona è completamente coperta perché non vuole farsi vedere si vergogna questa è la mancanza la mancanza di rispetto nei confronti della dignità base dell'essere umano è coperto sta parlando praticamente da un sacco a pelo neanche me l'ha racconto e lui stesso sta dicendo me ne rendo conto non è vita e questi non è vita infatti non è vita oh dai ragazzi veramente io non so più non so più cioè peggiora più andiamo avanti si è l'escalation è assurdo è incredibile è incredibile con sto cazzo di microfono dai rega veramente che squallore dai non lo so mi vedo piangere quasi con sto telefono puntato con il microfono puntato così sta telecamera in faccia dai su te lo sta dicendo io ho 25 25 anni il Senegal è costretto da una parte a dire così problema ma tu non riesci a lavorare? no come lavorare? senza documento non si può lavorare perché non hai documenti? è quello che ci ho detto io prima perché il mio documento sta in castura io rinforare quasi un anno è un anno che c'è documenti in castura no vabbè lui sta spiegando una cosa giustissima da lui mi ha permesso soggiorno devi andare via di qua lui vuole per contratto tu lo sai poi perché hai lavorato io vabbè poi sono rimasto 9 anni fa quindi è cambiato sicuramente però mi ricordo un problema grave e ancora sento sta cosa è che prende il contratto di lavoro di server permesso di soggiorno e molto spesso per fare permesso di soggiorno ti chiedono il contratto di lavoro ragazzi che sia un problema è un bug proprio dicono io che sia un problema ottenere il permesso di soggiorno documenti in regola soprattutto poi ripeto non conosciamo la situazione di questa persona però se effettivamente l'esempio classico una persona che o scappa da una guerra ripeto o va via da un paese anche con condizioni che non rispettano i diritti umani scappi senza documenti documenti in cellai tu rimani all'interno di un inferno un limbo un limbo più che inferno come lavoro o a nero sfruttato permesso di soggiorno per andare via di qua al momento si trova qua in questa situazione quanto dice che spesso sei in attesa magari ti rilasciano un foglio ed arriva magari fra nove mesi però con quel foglio spesso non te fanno il contratto però in realtà te lo potrebbero pure fa cioè là c'è una cosa burocratica che un po' pure i datori di lavoro non te vogliono fare il contratto spesso ti conviene mantenerlo a nero quindi ti dico no no questo foglio non va bene ma in realtà poi va bene quindi vabbè ci stanno da impiccicare la gente no ma è un casino poi in certi casi ripeto riesci a dimostrare ad esempio il paese di provenienza quindi se in quel paese c'è effettivamente una guerra adesso con l'Ucraina per esempio è successo ma in qualsiasi altro paese o un paese che non rispetta come ho detto già prima se diventa rifugiato sì anche c'era il discorso legato anche all'identità sessuali identità di genere quindi un paese ad esempio che discrimina gli omosessuali dove l'omosessualità una pena di morte tu devi riuscire a provare questa cosa non è neanche facilissimo in realtà in certi casi hai comunque diritto al permesso di soggiorno se rientri all'interno di queste categorie qui cioè rifugiati eccetera loro hanno già partito dal fatto che lui comunque cioè non lui però in generale questi stanno così perché si embriagano gli vanno a lavorare stanno qua in contemporanea c'è il momento della pisciata io dico sempre questa cosa un monumento dei muri aureliani duemila anni di storia di Roma è una scena veramente tragica sta cosa dalla camera puntata un tizio avvolto nel sacco a pelo come un vermo è veramente disumana e mo se distrai mentre gli racconta la sua vita da uno che urina sul muro romano sta a cagà il contraddittorio è guidato al cerbero Gigi ma cosa stai dicendo che abbiamo appena detto che inviteremo Cicalone ma poi il contraddittorio di che? cioè questo video noi lo stiamo commentando e non siamo d'accordo con l'approccio del video poi se ti riferisci ai moderatori evidentemente avrai scritto qualcosa che andava cancellato vabbè ma ci puoi pisciare va bene però facci i fuochi buttacce sta roba fa tutto sto casino mi dispiace oh te lasciamo ciao mi piace Cicalone voglio bene ma sto video no basta dai basta è pesante basta io prendo questo si si cacca da noi no una ragazza che va basta mamma mia no che vuole torni dagli tuoi dai basta dai va a parlare per favore se tu ci vieni dietro vieni inquadrato in automatico poi le minacce ti prendo ti spacco no come abbiamo detto se lo faccio con noi e siamo in 5 in 6 bravo bravo figurati con una ragazza che gli chiedi perché loro lo sai che fanno chiedono quando uno passa qua ti fermano sempre si te lo chiedono non è una rapina proprio però in realtà è una sorta di rapina no ma a un certo punto tu stai a camminare o poi non ti manda più via bravo o non ti faccio passare o ti vengo dietro comunque ti impaurisce sto ragazzo qui lui dormiva pensa prima di averci la tenda qui e questa credo gliela abbiano regalata sopra il muro del sottopasso del turbico stava sempre tramato così ti ricordi? si si tu ve lo si ma lo devi vedere bravo noi pensavamo pensavamo fosse morto noi pensavamo fosse morto attenta Diego il problema non so loro loro ce stanno se qualcuno ce li lascia stare è quello il problema sempre quello per l'umanità è questo ti hanno fatto giocirgli nuovi questo non c'era adesso siamo a via della cacca questa mamma mia che puzza questa mamma mia questo ragazzo è dove si vengono a fare i bisogni da qua attenzione guarda hanno ripulito allora dopo l'ultima volta qui hanno ripulito tutto pian cresciute ormai la torta erano un po' così ma da qua visto già non ci possa no vabbè questo è il famoso cacatoio ragazzi occhio ai polmoni occhio che ve rovinate il merda tour lo schippiamo e là è finito perché c'è il merda tour anche perché credo non sia neanche consentito qua qua metti qua 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 ecco lui lo spaccano sempre da sì questo è un tizio che ogni tanto trovano che c'ha tipo che lo ricuciano perché le hanno accoltellato tipo uno che fa ah ho capito ho capito sì 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 cazzino che gioca sì sì metto una mano qua sopra e mi arrampico guarda che lavoretto che hanno fatto sì una roba sto bello come sai non mi devi dare soffrono d'altra volta se mi dai 5 euro se mi dai 5 euro ma quelli non dovrebbero essere chiesti ti dovrebbe da lui fra ma lui ci si compra da beve ma lui ci si compra da beve mangio e bevi non mi metti questa telecamera lo spacco questo è bella di ria non lo sputato lo vuoi provare provaci a spaccare tu sei il simbolo di rio per via dai rio adesso sto spacco sì sì lui lo spaccano sempre dai non litiga sei amico su vai tranquillo dai fai bravo mettete a sedere muo dai mettete a sedere muo che la tua puta ma io se voglio da 5 euro metti a sedere metti a schermare metti a sedere e ti dà 5 euro dai guarda che ti racconta una storia Marcello mettete a sedere dai di sera mi sono spagato dai lo so tutte le sere lui li dica tutte le sere pure sta cosa raga parte il fatto che mi sembra abbia detto anche lui le vadere delle camere infatti a me sembra un po' una scimmietta è trattato come una bestia io mi fumo una sigaretta è trattato come una bestia ma poi ma che è sta cosa mettite seduto mettite seduto e te doi 5 euro guarda non lo volevo di come tante altre volte in questa live dove mi sono morso un po' la lingua perché effettivamente si sono atteggiamenti che ti danno quel brividino sulla schiena tipo a dire no dai no sta cosa no mettete seduto mettete seduto il tuo modo da fare il tuo modo da fare non è di una brava persona ti spiego aspetta fai parlare me fai parlare me ti ho dato 10 euro mo ascolta 10 euro dai oh cioè comprare la dignità di un individuo cioè ti ho dato 10 euro mo zitta e ascolta ma anzi questa roba fa schifo è il tizio col cappello che sta a causare dei problemi però ribadiamola un or del vero c'è un montaggio c'è un video e come ha detto giustamente prima Simone o Davide non me lo ricordo uno all'inizio mette quei momenti che sono diciamo quelli che devono attirare più l'attenzione quelli là che sono diciamo la punta di diamante dell'intero pacchetto e tra quei punti lì ci ha messo le parti che sono più critiche le parti che sono più particolari tipo quello che viene acchiappato là per Blaccio che viene poi trascinato lì stava tra le parti quelle là che stavano all'inizio quindi diciamo che è proprio l'impacchettamento che è sbagliato non solo il comportamento del tizio col cappello o de quell'altro quindi anche Cicalone ha le sue dose di errore l'impacchettamento di sto video fa passare un messaggio che a differenza degli altri sembra che stanno davvero andare lì a fare quasi l'istigazione non sembra un approccio tranquillo sembra una scimmietta mi ha dato una cosa tipo scimmietta mi ha dato un po' fastidio oh a cuccia che te dò il biscottino dai l'approccio del signore col cappello bianco a me non è piaciuto per niente è la prima volta che lo vedo pure avendo visto tantissimi video e mi dispiace perché fa passare un messaggio sbagliato di un intero lavoro che ha fatto Cicalone non solo a Termini ma tantissimi altri video che bellissimi posso dire qua intacchi tutto perché poi vedi poi uno ne parla magari chi non ha una conoscenza di molti suoi video se fa un'idea sbagliata quindi alla fine è un danno anche per lui e per quello confermo quello che ha detto Davide che quindi non c'è l'intento di Cicalone l'ha fatto senza rendersene conto però il pacchetto completo regà questo è secondo me come si suol dire gli è scappata no la mano perché vedi che ti vanno bene i video sono interessanti eccetera molto interessanti selezioni le persone sbagliate sì non lo so quindi proprio perché rispettiamo Simone e rispettiamo il suo lavoro siamo estremamente critici su questo perché se diventa la deriva del canale questa è un disastro perché butti come dicevi anche tu all'aria tanto lavoro buono che ha fatto nel corso del tempo bravo aspetta fai parlare a me fai parlare a me ti ho dato 10 euro 10 euro manco 5 te ne buto no che butti ti butti de meno perché io devo dare io lavoro eh ti butti de meno conta bene quello che ho da dire ma non mi dir non mi dir un bruttito te sto spiegando un'altra cosa questo che io ho fatto è un gesto che tu non ti sei meritato perché tu non sei venuto cordiale a chiedere ma aiutate amici mia mi date 5 euro per mangiare tu mi hai detto tu mi devi dare 5 euro perché altra volta mi ha fatto finito 5 euro ho capito ascolta ascolta esistono dei modi oh mi vogliono dei modi oh posso parlare proprio io certo adesso parla di una volta vado finora ti do 5 euro ok gliel'ho dati all'amico tuo gliel'ho dati dai ma sei sempre in modo siete amici state sempre insieme ma non ti vieni da per farse sardiamo cioè non è una persona non c'è vabbè ma dai vabbè ma possiamo andare avanti è proprio triste sta cosa non voglio neanche vederla mi dà proprio fastidio facciamo play no ma mi dà fastidio domani è a casa con me dai ma io l'ho visto ieri hai pagato 2 euro sempre io te li do sempre basta tu veramente non voglio neanche più vederlo sto fa c***a la persona mi spieghi perché c'era con te quello ma perché pensava che io avessi sfoggiato quello che appena ho fatto a rocoreto e allora quando non è assolutamente vabbè dai tranquilli lui sta lavorando questo sta s'amballato io no io stamattina alle 5.20 mi sono svegliato per venire qua a Roma e ora me sto tornando su non ho ancora mangiato non ho soldi per mangiare si s'ambagnato si è c***o pure lui che ha c***o ma 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 anche c'avevo veramente bisogno io a Simu te c'è guarda barbiari io c'era domaio vabbè dai che li poteva fare ciao bello ma grande vabbè vabbè qui la situazione non dico che è problemaria però dei casino non avete visto ma poi lo sai qual è la cosa che si respira nessuno ti vogliono che ti avvicini nessuno no ma guarda ti devo dire la verità loro all'inizio hanno un po' di timore chissà perché vabbè ma vedono un gruppo chissà perché con la maggior parte dei volte comunque ragazzi con una fisicità importante poi lascia perdere che sono tranquilli la maggior parte con un telefono anzi con una camera che si vede che è vistosa perché lei c'ha il manfrotto si vede dalle ombre si vede quindi quelli là vedono una camera non vuole essere ripreso nessuno è ovvio che c'hanno un approccio che può essere aggressivo ma quello è un dato che Cicalone stesso saprà perché non sanno mai se sei in emittente tv se sei in giornalista quello che vuoi fare poi tanti pensano gli vai lì gli ha la punti in faccia e gli accusi se invece tu vai lì gli parli e automaticamente gli spieghi sta cosa ecco vedi queste sono le famose noi ogni tanto veniamo a controllare sono le famose transenne della città di Marino che stanno ancora a termini toccatiglie al sindaco di Marino che queste costano caro guarda che ne so stanno sempre qua fai una cosa del genere non ci sono individui c'è degrado oh a sindaco la classica cosa come se faceva i tempi ah raggi vedi che devi fare spesso inutili però ecco segnali dei problemi poi sono video molto visti arrivano anche a milioni di visualizzazioni quindi magari alle volte la politica ascolta anche movimenti di questo tipo per consensi perché oh Ciccarone è seguito magari voglio fare anche un atto di pubblicità e qua non c'è nessun problema è quello che fa spesso e volentieri quando subentra la componente umana eh beh devi avere delle accortezze cazzo qua almeno quella è base monumenti ogni tanto qualcuno dorme lì dentro queste sono mura aureliane no ma non è lui sei bene hai lavorato sta e io che cazzo ne so chi è è luce hai scarpe oggi però è nuovo scarpe nuovo ha piove ha piove un altro ieri ha piovuto non hai lavorato un altro ieri piove basta da mio lavoro hai stoppato il lavoro capito io lavoro grotta rossa io dici cioè massimo massimo io dici massimo non arrivo però piove oddio no ragazzi sorpresone sono andati da tutti ci hanno lasciato da soli ah ma hanno detto cara stanno a fare live su Dede ho detto che stavo a tornare aspetta vabbè non volevo creare no in realtà non so se Gianluca l'aveva già scritto ma volevamo fare una live quindi un po' tardi però allora abbiamo visto sto video Simo è attivato provate a parlare sì sì dovrebbe essere tutto quanto nella norma no lo sentite sì 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 ci sta ci sta ci sta Simo abbiamo visto sto video prova un due tre tremendo domanda vai vai avete visto il video dopo e avete mi avete chiesto qual era lo scopo di questo video no ce l'hanno segnalato quello dei commenti stavamo finendo questo però ma non so se hai visto parte della live secondo me l'ho sentita dal carplay però ti dico non è che era il massimo capillo ci sono stati tanti momenti problematici Simo secondo me vabbè spiegaci la tua vabbè io vi spiego la mia poi quello che è successo è che noi abbiamo sempre fatto stazione termini con estrema calma con Mattia eccetera un giorno mi sono detto chissà cosa potrebbe succedere se portassi persone non schillate mettiamola così cioè persone pronte a reagire persone che magari hanno difficoltà in quello una cosa però l'ho sentita aspetta però questa la volevo subito sottolineare perché era importante siccome Mussimonio non c'è andato via e lui ha detto una cosa ha detto ah guarda sta da riprendere dei poveracci eccetera eccetera senza autorizzazione allora ditegli a Simone ma non c'è sennò io l'avrei detto a lui che se lui afferma una cosa ne deve essere certo proprio matematicamente certo perché altrimenti è diffamazione nel senso che se quello che io stavo riprendendo dopo in video mi dice a me autorizza a comparire nel video eccetera eccetera legalmente va bene però tutte le persone che sono apparse qui hanno dato l'autorizzazione assolutamente sì tutte le persone compreso Lorenzo a cappello tutte le persone quello del saccappello non è stato ripreso in volto poi è inutile tu dicevi ah gli mettermi il microfono non faccio non voleva parlare sennò non parlava sennò stava zitto però ha detto una cosa precisa fatemi finire di parlare vai 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 perché una è una falsità cioè se voi dite quelli non hanno dato l'autorizzazione e poi io ce l'ho e dopo Simone è diffamazione ma poi stava di Simone soprattutto di quelli sì sì no no però di quelli che stavano a lanciare la bottiglia non è una minaccia la mia è un modo di comportarsi nel senso che poi anche voi scadete nel dire dare sentenze su cose che non sapete allora io vi dico intanto l'obiettivo del video era proprio questo portare delle persone e scatenare l'indignazione perché c'è chi io poi tra l'altro sto video l'ho caricato sia su youtube che su facebook ed è curioso avete la differenza tra le due piattaforme su facebook 90% avete fatto bene bim bum bam su youtube ho lasciato tutti i commenti non ho cancellato uno gente ah fascisti nazisti squadristi che io so politico poi tra l'altro eh me l'avevi detto su whatsapp però volontariamente ti ripeto tu hai detto bene era montato ma io l'ho montato volontariamente per suscitare questa reazione perché perché secondo me è pure giusto far vedere come reagirebbero delle persone che non siamo né io né Mattia Faraoni ma quello col cappello bianco io non l'ho mai visto era la prima volta esatto Marcello era la prima volta appunto tra l'altro Marcello adesso comparirà nel video di domani dove gli ho fatto delle raccomandazioni importanti ho detto Marcello adesso questo secondo video devi dimostrare che non sei come il primo video altre persone non sono più venute perché io l'ho detto non potete venire ai prossimi video proprio per in virtù di quello ma io non le ho tagliate le ho volutamente lasciate perché per me è provocatorio lasciare le reazioni delle persone poi il fatto che io inquadri non inquadri eccetera sono tutte le persone che in post produzione mi hanno dato l'ok o non mi hanno dato l'ok perché tu hai detto oppure quelli là che si incazzavano perché quelli là che stavano di Simone mi sa che erano quelli là che erano diventati più volenti per non essere ripresi credo se non li sapete allora sono gli stessi che in altri video compaiono e vengono con noi sono gli stessi che nel video successivo ci sono per quello vi dico ho visto che hai portato pure i pantaloni ho visto che hai avvitato dei vestiti c'è sempre il suo discorso poi mi risponde un attimo se no poi ci sono tanti temi vai esatto però quando si afferma una cosa non è che c'è tanto da rispondere tu affermi e io ti dico tu l'hai affermato non l'hai supposto non hai detto forse non c'ha tu l'hai affermato hai detto quello non c'è autorizzazione e poi è un là per dire ah lucrano fan eccetera eccetera regà io posso fare video su youtube dove guadagno i stessi sordi di questi video qua con temi molto più tranquilli però andarli in mezzo veniteci una volta no vendeci ma da quello che io non voglio spoilerare ma da quello che infatti non ho detto nulla ma da quello che mi hai accennato ma io ce l'ho venita avevo pure detto però dopo quello che mi hai accennato l'altra sera adesso uscirà domani ve lo spoilerò adesso poi quando hai finito ti rispondo si nell'insieme di tutto questo uno ci voleva accoltellare perché ne stiamo a difendere un altro banalmente tu dici vabbè ma tu ci vai a posto eccetera eccetera ma io ci vado pure a camere chiuse io ci vado diversi giorni pure sulla signora avete detto un pacco di cazzate nel senso non è vero niente quello che avete detto cioè quella che abbiamo aiutato avevamo detto cose buone avete detto quella si io ho seguito i video della raccolta fondi tutto quanto però vi ripeto secondo me bisogna saperle nell'insieme le cose sto video vi ripeto va bene avete preso quello giusto perché è provocatorio e ci sta veramente la possibilità di mille cose allora discorso autorizzazioni dai che è il primo cioè tu affermi di avere l'autorizzazione dei tizi che hanno annunciato la bottiglia della persona probabilmente da quello che è stato detto inferma mentalmente quindi sai benissimo che l'autorizzazione non ha validità sei una persona che che era stata aggrappata ma tu adesso stai a dire che è una persona inferma mentalmente io ti sto dicendo ma sei tu che è quello che c'è il certificato medico quello sta in carcere quello infermo mentalmente sta in carcere ma tu affermi inferma mentalmente sei un medico hai fatto una perizia io ho detto quello che è stato affermato nel video anche da te che questa persona ha dei problemi mentali e c'è stato ma si vede ma non siamo medici noi lo supponiamo io suppongo che abbia dei problemi mentali ho detto sì quindi anche la mia è una supposizione se tu nel video hai detto questa cosa allora di quello ti rispondo c'è adesso aspetta aspetta fammi finire un attimo mi fai finire un concetto sono tasselli diversi quel signore nel video dopo quel video lo hanno arrestato ok il mio metterlo nel video c'è un altro video dove io metto uno pieno in faccia che mi ha aggredito e mi hanno detto ah ma lo dove pixel eccetera eccetera no regà perché se sono bevuti pure quello allora la responsabilità è la mia io li ho messi in video proprio perché il giorno dopo i carabinieri sono andati a caricare e che c'entra c'entra che non ho non ho oscurato il viso mica serve autorizzazione se quello lo denunci ho predictato bene io ho detto prima un motivo che c'è può essere per lasciarle magari per segnalare il pericolo però se è uno che lancia le tine che lancia bottiglie che si abbassa i pantaloni uno fa vedere segnalarlo poverino tuteliamolo io ti rispondo sti cazzi cioè se uno ha tirato una bottiglia a uno me ne sbatto il cazzo allora aspetta ci vado in tribunale se violo la sua privacy ma me ne sbatto il cazzo allora questo è diverso dall'inizio però e la Simone stava a dire che non ti possono portare non ti sono in tribunale perché sono comunque con lo shard sono barboni no quegli altri ragazzi io li ho anche pixelati se voi seguitemi ai video ci sono barboni pixelati ci sono barboni di spalle ci sono barboni ai quali cambio pure la voce perché l'accordo è diverso nel caso di un crimine di un reato io personalmente mi prendo la responsabilità di non pixelarlo anche se lui non mi ha dato l'autorizzazione come quello che molestava la signora che è una cosa completamente diversa da ciò che hai detto all'inizio io ti ho fatto una domanda precisa no 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 tu stai a terciversare fermati un attimo io ti ho fatto una domanda precisa no io ti ho detto tutti quelli che compaiono in video che ovviamente hai detto non c'hai l'autorizzazione io dico guarda ce l'ho tutti nel caso specifico di reati fermo reato è una cosa parlare è un'altra sai la differenza tra reato e parlare io e te parlamo io ti do un cazzotto e reato capito sono due cose diverse allora uno mi da un cazzotto lo riprendo non lo pixelo anzi io ti tiro di più c'è un video dove c'è la faccia di uno che ci ha tirato fuori il coltello questa faccia di uno ti faccio vedere la chat col commissariato perché poi mi hanno chiamato mi ha detto mi mandi la foto la pubblico domani cos'è perché la pubblico? perché se lo prendono bene se non lo prendono e lui mi vuole querela per privacy io sono il primo a andare a incontrare oh bravo querela me privacy così poi andiamo al commissariato e faccia restare cioè sono due cose diverse attenzione non vorrei che si fraintendesse allora Vincent questo signore qui con la barba che sta nel fermo immagine sullo schermo me l'ha detto un milione di volte infatti non abbiamo parlato tranquillamente gli stessi sulla panchina tipo il signore anziano che voi guardate prima lo abbiamo accompagnato noi alla Caritas io tutte le volte gli dico prima di partire col video ragazzi chi è che vuole comparire? io 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 gli altri dietro la camera poi se qualcuno si infila nel video e poi mi dice non voglio comparire vado a pixelarlo ci sono decine di video con facce pixelate questo questo proprio per rispetto di quello che è il format poi se ci sono delle facce tipo persone che commettono un reato molestia lancio di bottiglie minacce e tutto quello che concerne un reato che ovviamente essendo un reato va denunciato eccetera eccetera io li lascio per mia scelta proprio perché se io domani volessi procedere nei loro confronti o loro vogliono procedere ai miei confronti è una cosa tra me e lui tra me e la persona che è rimasta in video posso rispondere adesso? ok chiaro? ok io ti ho fatto una domanda precisa prima ti ho detto tutte le persone che sono apparse qui hanno dato l'autorizzazione e tu mi hai risposto sì assolutamente sì adesso no vedi ci stai a gira intorno hai detto sì o no? tutte le persone che sono apparse ok non stiamo dicendo tutte le persone che hanno commesso un reato davanti a una telecamera fermo sono due cose diverse vedi che ci giri intorno stai a fare stessa cosa allora apparse vuol dire io e te parliamo tranquillamente io ti ho detto anche quelli che hanno tirato la bottiglia la persona che voi avete affermato essere instabile mentalmente allora quelli che hanno tirato la bottiglia di quelli che hanno lanciato quelli con cui abbiamo parlato dopo stesso discorso regà volete apparire tranne quello che ci ha lanciato la bottiglia perché ha commesso un reato stessa cosa e questa è una tua scelta però non c'entra con la legge cioè tu stesso hai detto ok io mi prendo la responsabilità se poi quello vuole per paraevasi tra l'altro io sto rispondendo certo ad una cosa però banalmente facciamo un esempio stupido tu dici a uno gli ho incidentato la macchina sì ma quello mi ha sparato contro la macchina cioè è una proporzione diversa ma questa è una tua legittima scelta anche sul discorso delle conversazioni private io posso dire oh questo mi ha minacciato a me non interessa io pubblico la conversazione è una mia scelta però diciamo che hai cambiato versione perché ti ho chiesto un'altra cosa no non ho cambiato versione aggiungo due gruppi diversi aggiungo un dettaglio la persona che nel video è stata dipinta come mentalmente instabile matto è una supposizione vostra non mia anche perché adesso ti confermo è in carcere e non è passato come mentalmente instabile perché ha fatto tre rapine una dietro l'altra quindi evidentemente evidentemente è un furbo è uno che ci ha provato perché ha visto troppa gente mentre l'ha fatto il finto mentalmente instabile e tra l'altro c'è stato anche il discorso sull'infermità mentale tre rapine a tre donne di cui una ha preso un cazzotto in faccia queste sono fonti ufficiali ma io poi non sto sindacando sulla bontà della persona però c'è stato pure tutto il discorso della ragazza le persone che hanno problemi mentali vanno aiutate quello è il discorso che ha fatto la ragazza è suo non è mio io l'ho lasciato ti sto parlando del video tra l'altro io ti ho anche io rispondo di me nel senso io nel video ho messo tutti proprio perché l'ho voluto fare provocatorio e probabilmente non ero d'accordo su alcune cose del video però le ho lasciate ugualmente perché ma qual era l'intento cioè nel senso provocazione per arrivare a allora vi faccio un esempio vi dico volete venire con me a termini voi due venite con me a termini e vi cagate sotto oddio oddio questo mi dirà una cosa adesso faccio un po' vabbè ma probabilmente mi cagherei sotto tra l'altro allora che succede dici cazzo marra si è cagato sotto flame si è cagato sotto posso fare due cose li taglio e facciamo finta è andato tutto bene oppure lascio anche un momento tragico in cui marra pianto e tu dici perché che senso c'ha c'ha un senso narrativo nel senso anche il fatto che Marcello è stato rude brutale Maria è stata greve pesante su certe cose l'abbiamo detto ma gli è stato detto tranquillamente io li ho lasciati perché lascio pure la gente che sta per terra buttata lascio determinate situazioni che secondo me tutti dovrebbero vedere perché la mia intenzione nella vita è far vedere tutto non esiste censura non esiste un cazzo cioè questa è la mia idea deve esistere nel momento in cui aspetta poi fermo un attimo dopo quando violi la privacy no no non parlavo neanche di privacy parlavo di dignità no ebbè aspetta Simo posso dirti una cosa fammi parlare un po' che la persona fermo un attimo no perché è monologo no aspetta se la ragazza lede la dignità di quel ragazzo vicevezza anche lui può ledere la dignità sua poi lei è bianca lei è forte lei è ricca va benissimo però ma voi avete scelto di mettere in video quella persona Simo no quale persona la persona che potrebbe ledere la dignità della ragazza certo ma te l'ho detto l'ho fatto volutamente ma la domanda mia è provocazione in che senso cioè qual era lo scopo di questo video lo scopo di questo video al di là del mostrare tutto lo scopo è quello che t'ho detto all'inizio t'ho detto guarda tu hai detto suscita una reazione mettere no portare persone non preparate persone che magari hanno perché questo volevo vedere che effetto faceva è come quando tu fai il prank al supermercato oh vediamo che succede se gli emetto i 5 euro per terra e qua signora forse li raccoglie forse no è la stessa cosa quindi è uno scherzo no non è uno scherzo è semplice o sai come scrivono loro tante volte esperimento sociale per non dire uno scherzo no perché altrimenti scherzo sarebbe una presa per culo questo è un vero esperimento sociale porto una persona che non ha la sensibilità tra virgolette nei confronti di altre tipologie di persone però perché non l'hai specificato nel video lo stai a dimmiare perché lo devo specificare no ho capito l'ho specificato nel video dopo infatti dopo ho capito è un po' diverso però scusami è come se io ti dico viene franchino qua famo finta di litigare poi ah no era tutto uno scherzo perché non hai detto inizio no aspetta ma quello è perché è live questo è il video montato infatti quando tu parli di esperimenti sociali tipo i The Show alle volte poi sono anche paraculate loro mettono ragazzi questo è l'esperimento sociale il mio video ha suscitato indignazione ha suscitato 3.000 commenti tu all'inizio però non hai messo un disclaimer tu hai messo hai messo il momento di enfasi maggiore eh certo ok quindi molto spesso viene utilizzata Mattia pure in altri video Mattia l'altro finire la frase molto spesso viene utilizzata anche come paraculata sta cosa dell'esperimento non sto di a te non ho detto che era esperimento non l'ho scritto proprio non sto di a te però in generale alle volte io l'ho detto che era una paraculata l'esperimento sociale è sempre una paraculata no è sempre paraculata però però in questo video neanche c'è lo study mo quindi secondo me semplicemente hai sottovalutato delle cose te lo devo dissi perché ci sono state delle scene veramente tristi dal mio punto di vista vabbè ma dal tuo punto di vista Marra ci può essere qualunque cosa triste vabbè lo posso dire io ritengo tristi tantissime altre cose nel mondo ma lo posso dire certo anche perché c'ho rispetto del lavoro che fai c'ho rispetto delle cose che hai sempre fatto lo sai e l'ho detto 40 volte questa cosa secondo me rovina parte del lavoro che fai ma è vero tanti l'hanno scritta sta cosa che te devo dire però cioè vedere un uomo all'interno di un sacco a pelo che dice la mia vita è effettivamente una merda io mi sento di non vivere questa è una non vita riprenderlo in quel modo secondo me è triste allora intanto lui non si è fatto vedere però nel secondo te perché si sentiva indegno in quella condizione perché tu non le vivi queste cose allora ti insegno una cosa quando c'è un senza detto se lui non ti vuole parlare non ti parla se lui si vergogna non ti parla se lui ti viene a parlare perché ha timore non sa mai chi sei un giornalista quello che sei però se ti inizia a parlare se vuole sfogare lo vuole fare nessuno l'ha costretto il problema di quello nel sac a pelo non me voglio far vedere lo sai perché non si fanno poi vedere perché non vogliono far vedere al paese loro che stanno buttando prima cosa però lui nel sac a pelo il fatto che io gli ho messo il microfono ho fatto parlare la sua voce lui stava parlando non è che lui non voleva parlare se lui non voleva parlare stava zitto nessuno gli avrebbe detto niente lui ha iniziato a parlare no tu lo trovi indegno ma tu non ti manca un pezzo perché tu probabilmente sei più agiato di lui io sono più agiato di lui però se lui stava parlando in quel momento fagli di quello che vuole non si è mostrato in volto la sua scelta poteva pure uscire dal sac a pelo e dirtelo io te lo documento se tu me lo stai dicendo io non gli ho premuto sul sac a pelo parla 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 lui ha parlato ha avuto una reazione però che reazione ha avuto una reazione di ha avuto la reazione di quello che sta buttato per strada di quello che vuole nascondersi da una telecamera no ok cioè quella non è che ha detto ragazzi questi sono i miei problemi e secondo te perché parlava perché ce l'accevi o perché voleva raccontare dimmi una delle due vediamo se ci arriamo ma stava parlando dicendo proprio ragazzi sono in questa condizione indegna e perché ce lo dice a noi se non gli interessava perché stavate riprendendo no lui stava chiuso nel sac a pelo non gli interessava che riprendiamo o non riprendiamo lui voleva dirlo a qualcuno lui voleva però anche qui tu non lo puoi sapere ma se tu non c'eri secondo me no ma che cazzo lui ti ha detto è stata azione seduto qua sulla sedia marra lino soneto lo sai tu hai la certezza certo perché ci abbiamo parlato dopo ma che vi pensate che io e i video l'italio non ci parliamo ma visto che molte persone compresa quell'altra signora ci sono tornato 26 volte lo so però compresa la signora ieri sera l'ultima morte ho parlato con la stessa gente vanno tutti parlare lo sai perché vanno tutti parlare perché ieri ero del culo perché non vanno vivere così guarda l'ultima testimonianza proprio di quel ragazzo nel sac a pelo è di ieri e lui lo sai che cosa ha detto a parte andrà in palestra da mattina ma lo sai lui che cosa ha detto ha detto io non mi voglio far vedere per la famiglia però ve le voglio di qual è la mia situazione cioè il fatto di dire è imbarazzante oppure è sbagliato perché se loro vogliono parlare se uno si vuole lamentare se tu lo ascolti un conto è ascoltarlo Simone un conto è riprenderlo e tu dici riprenderlo è un'amplificazione però è un'amplificazione del progetto se uno fa il puntiglioso lo riesce a capire che non ha dato un'autorizzazione se lui ha detto se lui ha detto io non voglio farmi vedere non ha detto non voglio farmi vedere lo sta dicendo tu ma hai detto tu sì ma lui dal sac a pelo non si è fatto vedere ma c'era la sua voce ha parlato quindi i suoi ovviamente familiari potranno riconoscere la sua voce sì i familiari somali che lo sentono parlare in italiano lo riconoscono su youtube su un video a distanza magari dal villaggio non vuole farsi vedere certo ma farsi vedere in faccia è una cosa parlare dalla voce la compagna o il figlio riconosceranno la voce del padre ma è un ragazzo c'ha 18 anni ma vedi che stai a fare delle supposizioni ho capito ma secondo te il padre è somalo no vede il video su youtube danza a cappello sente la voce lo riconosce tra l'altro è lui che sta parlando 18 anni non era 25 io mi ricordavo 25 vabbè poi rivediamo in caso magari controllate però al di là di quello ma poi ti dice l'età che vuole sta dentro un saccappello comunque anche quell'altra signora è sul marciapiede no pure lì quella che si accumulava la roba l'accumulatrice quella che sta diciamo davanti gli autobus davanti i capolini degli autobus pure lì non sono scene secondo me belle da riprendere cioè una persona che sta lì in quella condizione fate vedere pure dove fai i bisogni cioè secondo me no non abbiamo detto vabbè caga lì e lei che faceva via via l'unica cosa l'unica cosa vanno in bagno là l'unica cosa l'unica cosa l'unica cosa perché detto sì sembra uno che caga ma l'abbiamo visto avete fatto pure il merda tua però però davide il problema è un altro scusate allora adesso al di là di questo video secondo me quella è visto che finisco una cosa sulla signora accumulatrice l'abbiamo mente neanche questa autorizzazione giusto la signora accumulatrice no perché lei perché ha detto lei non risponde no allora c'è un'altra cosa quella signora è sul suolo pubblico ok perciò se io sto passando la riprendo non l'hai ripresa non l'hai ripresa per errore passando avete fatte le panoramiche ma non le faccio io le riprese comunque l'hai montata tu l'ho montata io ma non è che siamo andati lì in primo piano a intervistarla lei era perché non voleva ma no come di sfondo sono stati cinque minuti in cui è stata inquadrata in ogni angolo della sua casa chiamiamola così il problema di Davide Marra è che magari uno dorme per strada uno accumula roba caga sotto a un coso però se lo riprendi in faccia senza l'autorizzazione quello è il problema più grande di questa persona non è quello è il problema non è il problema l'edere la allora la vedono mediamente 4 milioni di persone l'anno perché passano a stazione termini l'anno la vedono però se la vedi nel video di Cicalone quello è il suo problema il problema non so i servizi sociali che mancano che dovrebbero portarla da qualche parte tutta una serie cose no il problema è che Cicalone l'ha inquadrata allora se questi sono i problemi del mondo va benissimo ho sbagliato io a inquadrare quella signora di quella non ho l'autorizzazione ho sbagliato io che nello sfondo dietro a me si vede lei ho sbagliato a far vedere scusami fermo fammi finire ho sbagliato a inquadrare i suoi bagagli per terra perché questo è il problema più grande poi domani lei starà ancora lì domani probabilmente prenderà la pioggia lei domani probabilmente cacherà sotto al coso gli ruberanno la roba però questo è il problema più grande che io l'ho inquadrata dietro di me e non gli ho chiesto l'autorizzazione anzi lo sai che faccio domani no dopo domani ci passo proprio pure a chiedergli l'autorizzazione così poi te la mando in video a parte gliela provo a chiedere giuro intanto la precisazione sull'autorizzazione te l'ho fatta perché tu mi hai inizialmente risposto con una certa no perché voi tu hai no fermo io ho risposto su quello che ha affermato Simone Santoro Simone Santoro ha affermato sta riprendendo questi non ha l'autorizzazione oh Simone Santoro l'ha detto ha affermato io stavo parlando di quello io ti ho detto quelli che stanno nel video salvo casi eccezionali in questo caso reati prima hai detto reati questa non mi pare abbia commesso un reato nei tuoi confronti sì ma non è stata intervistata questa si vede nello sfondo sta in mezzo alla strada si è parlato diciamo un minuto o due questo è sfondo lei è veramente tu la vedi la riconosci cioè ti dimostra che anche dal po' dai dai su vediamo quanto si vede stiamo a prendere in giro dai vediamo vediamo quanto facciamo un po' di quanta violazione della privacy è una persona sola che non parla mai con nessuno dorme sempre nello stesso angolo nessuno marciapiede marciapiede con tutti i bagagli praticamente tutta la roba i cianfrusaglie c'ha a diello si c'ha tutti i valori ce l'ha tutti qua sul marciapiede c'è attenzione a un sacco di cose prima delle c***a non c'è provvidenza sociale poi non c'è a c***a dice quella è brava magari dice la c***a non sa non parla quasi con nessuno io non ho mai visto a parlare con nessuno e questo è tutto il suo avere questo è un marciapiede cioè questo è un marciapiede della fermata ovviamente vedi lei lava le cose le asciuga qui tiene tutto fermo magari con le bottiglie d'acqua e vive veramente in una difficoltà estrema tantissima 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 no ma non mi pare sullo sfondo ma tu scusa ma tu questa se l'hai vista in faccia lei ha la spazzatura ma fa male in faccia dai dopo si vede anche in faccia veramente in una difficoltà estrema tantissima 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 lei vedi non parla proprio lei ha la spazzatura vedi lei attacca la spazzatura tutto bene signora oh e di che ti fa là no ma non parla lei lei non parla con nessuno ci abbiamo provato già in passato sorry abbiamo provato in passato è proprio proprio violazione della praia io la capisco ma che si è visto mezzo frame te hai mezza faccia poi continua tu vive con il suo territorio vabbè questa allora questa era una violazione della privacy questa se la porti in tribunale che te fanno dai allora scusami c'è una panoramica intera dove dove fermati su tutto quello il viso tu lo vedi tu vedi il viso e sta signora lo mangia tutto però se lo riconosci penso che se parli dell'intento più che del viso cioè basterebbe di non me ne frega un cazzo di riprendere di mente ma questa sta a mezzo alla strada ragazzi ma sta a camminare con la camera non ce ne frega un cazzo cioè ci siamo noi sullo sfondo questa che sta qui che dobbiamo fare allora Simo il discorso non è neanche autorizzazione non autorizzazione quella è una cosa per cui ti ho risposto visto che inizialmente mi hai risposto anche con una certa durezza non mai lasciato finire dicendo no ho tutta l'autorizzazione abbiamo detto ok quelli che commettono reati no oppure questa però aspetta fermo di quelli con cui parliamo o intervista stiamo a parlare non si parla vabbè questa leviamo il discorso autorizzazione quanta gente si vede nel video che cammina oltre a lei quanta gente una marea quella effettivamente è nello sfondo questa non lo è no 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 c'è gente che passa tanti alla camera e si vede che famo se saluta stanno lì così ma questa speriamo torno questa però ha pure fatto così ha pure fatto a più riprese andate ha fatto una volta sola quando gli stavo a parlare almeno in video quando gli stavo a parlare anche quando stavate lì adesso la vedi che si sta a lamentare dopo quando stavate al lato quando dici qua cagalla sapete proprio lei che fa così l'abbiamo messo pure il replay però al di là di quello ora ti dico levata l'autorizzazione vabbè uno dice sti cazzo sento che gli frega va bene ok però capisci che se uno si permette di dire questa è una mancanza estrema di dignità è una mancanza di rispetto nei confronti della dignità di un individuo ma cioè c'è posta no? non c'è posta come critica non hai capito non è che siamo andati in un luogo allora se tu parli di dignità no? è questo il problema lei sta su uno dei marciapiedi più in vista della stazione Termini la vedo io la vedono migliaia di altre persone e tanti fanno finta di non vederla io so di questa idea poi ripeto la mia idea io faccio vedere un problema viene amplificato dal video le persone dicono vedi ma davvero è così alla stazione Termini adesso togli questo video che è più provocatorio guardatene altri di Termini ma l'ho detto che sono usciti nella live l'abbiamo fatta le precitazioni abbiamo detto questo è un video molto problematico esatto voi vi siete messi su sto video proprio in carogniti e io vi sto spiegando guarda che sto video volutamente voglio la reazione provocatoria e ho lasciato ti ripeto tutti i commenti negativi possibili immaginabili non c'è credo personalmente controllali no no sui commenti sull'intento secondo me è stata un'escalation che magari non hai gestito bene no assolutamente io ho portato persone volutamente problematiche perché ci avevano delle idee su determinate cose che potevano cozzare con quello che è la stazione Termini a dimostrazione di questo Marcello di tutte queste persone ho riportato Marcello alcune non le ho più riportate perché si è impegnato nei video successivi ad essere molto più costruttivi e questo è successo domani uscirà il primo settimana prossima uscirà il secondo dove c'è anche Mattia Faraoni a dimostrazione che chiunque nonostante il primo video perché sarà una sequenza storica ci sarà il Marcello ingestibile ci sarà il Marcello moderato e ci sarà nell'ultimo video un Marcello tranquillissimo questo a dimostrazione è un percorso di formazione ma guarda che lo stesso Pileggi se tu vai a vedere i commenti dei primi video gli dicevano le peggio cose adesso anche lui ma anche io e Mattia guarda che il primo nostro video alla stazione io stavo a fare botte non so se ve lo ricordate io stavo facendo a botte o comunque stavo invitando uno a colpirmi perché giustamente si erano frapposti fra noi e tutta una serie di cose poi non mi è più successo anzi dirò di più quando mi stavano accoltellando nel video di domani io ho detto raga lasciatelo andare e lui ho detto ma come lasciamo andare uno che ci stava a coltellare si lasciatelo andare fate si che la polizia intervenga abbiamo tutte le riprese non ci sono problemi questo è il famoso fatto del reato però dire o sai che Davide dire con sufficienza cioè tu stai qua sul treppolo e dici ah sta cosa è ignobile perché poi i termini che usi sono quelli ma io non mi offendo ci mancherebbe che buona patatina però io dall'altra parte ti dico sai che cos'è è che è tutto bello è come se io dicessi voi fate un lavoro del cazzo tu ti offenderesti non ho detto questo però tu ti offenderesti se io dicessi fate un lavoro ignobile poi io so quanto è faticoso il lavoro vostro quanto è difficile creare non ho detto questo è diverso se tu avessi criticato una nostra live problematica sarebbe stato giusto io ho visto fare delle live che potevano essere magari interpretate in un certo modo però io so benissimo che cosa c'è dietro il lavoro e tutto nessuno ha messo in dubbio il tuo lavoro Simone no qua stiamo facendo un discorso completamente diverso stiamo parlando di un video e se tu ti guardi la live per intero vedrai che ha più riprese io e Gianluca soprattutto ma anche Marco abbiamo detto no 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 però ti sto dicendo abbiamo detto proprio perché conosciamo Simone lo vogliamo bene ci abbiamo collaborato sappiamo che si fa un bucio de culo che ha fatto tutti i video di un certo tipo qua inspiegabilmente siamo arrivati ad un livello ma io ti ho dato la risposta io ti ho detto quindi il tuo discorso non lo fa a me perché io non ho detto il tuo lavoro è una merda non sai lavorare sì ma io non ti ho detto io ti sto portando un esempio che è quello che poi è generale ti ho detto se a te a un certo punto ti dicono fai un lavoro di merda non te lo sto dicendo io ma magari te lo dice l'utenza te lo dicono amici te lo dicono altri lo sai che gli rispondo ho detto guarda ragazzi se il video vi è piaciuto bene se non vi è piaciuto è volutamente provocatorio regà quando io lo monto il video me lo rivedo quattro volte lo so benissimo che cosa ormai il pubblico lo conosco so benissimo che se lascio la frase di Maria ah state qua non c'hai manco una casa e quindi perché ti stai lamentato della provocazione della tua provocazione della reazione tu mi hai chiesto perché l'hai lasciato e io ti ho detto l'ho lasciato proprio perché voglio quindi perché ti stai stupendo del mio commento non ho capito no aspetta scusa mi hai detto stai qua sul Trespo la giudicare questo video che io ho fatto con quell'intento perché tu sei un addetta ai lavori e io ti sto dicendo attenzione che la mia volontà era quella di suscitare questa cosa ma tu che sei un addetta ai lavori non dovresti dire Cicalone è ignobile perché mette il microfono davanti al saccappello è una scena ignobile che dovrei dire io te dovrei dire è ignobile marra che fa venire Don Vito qua e lo pia per culo per dire adesso dico dei nomi che mi ricordo però non lo dico perché so benissimo il rapporto che c'è di voi con Don Vito so benissimo quello che c'è dietro le scene pertanto me tengo poi ancora peggio è Simone che afferma cose legali allora è un altro problema poi in caso ne parlerai con lui io ti ho già risposto sì ho capito però regà a lei passata a fan tre in quattro c'era pure Chitano che si imbarazzava io ti ho risposto anche sull'autorizzazione e tu ci hai dato la tua risposta quindi quel cavillo legale l'abbiamo chiarito regà non è che stiamo a fare il processo alle intenzioni è semplicemente il fatto che se io vado ad affermare davanti a una platea poi c'avete ovviamente la platea che dice ah sì c'ha ragione no non c'ha ragione eccetera eccetera è semplicemente una cosa sbagliata cioè se io affermo è sbagliato tutto là allora io semplicemente vi sto chiedendo dal momento in cui tu hai affermato qui eh ho fatto un video volutamente provocatorio più provocatorio di tutti gli altri per suscitare delle reazioni ok la reazione che ho avuto io Davide Marra questa scena secondo me è indegna quella del saccappello io non la ritengo vabbè Davide Marra io non la ritengo Davide Marra sì perché lui voleva parlare Davide Marra stava nel saccappello si è tutelato lui Davide Marra ritiene indegna anche questa io stavo a discutere di quello infatti della scena del saccappello però la domanda è perché c'è che cosa stai ricriminando ad una persona io sto a parlare della scena del saccappello ok io l'ho trovata delle altre sono volutamente io l'ho trovata una scena molto triste di una persona che si vergogna della sua esistenza ok della sua condizione di vita ma tu c'eri io sto parlando del prodotto no capito però se tu lo stai dicendo io lo trovo e io ti sto dicendo tu puoi dirmi qualsiasi cosa perché io valuto il prodotto che vedo ma se tu vedi uno che io ho fatto una domanda ma se lui vuole parlare no vuole parlare vabbè non ritorniamo su questa cosa ti dico secondo me ma non è quello è è un momento compagnia che ci avevi apprezzo ovvio chiaro quello l'ho detto regalo pure la scena di quell'altro ragazzo mettiti la sede che ti doi 10 euro capisci Simo che sto scena guarda che quello perché ti parlo di mancanza posso dirti una cosa lo conoscevate pure no ma nel video dopo Marcello e quello stanno insieme nel video di domani vabbè sì però posso dire una cosa scusami questa persona problematica che hai definito tu che ti sei portata nel video non è problematica aspetta non è problematico è uno che reagisce diversamente a degli stimoli che sono la stazione termine è cambiato due settimane domani domani fate domani fate la reaction sul video domani fate la reaction sul video ma è un video posso anche recitare cazzo no non recita una persona di 30 anni vabbè la frase secondo me è che il primo video ha avuto l'approccio che lui voleva perché non gli è stato perché stava là così cioè ma tu no prima del video non è che gli hai detto esagera no no a questo secondo video gli hai detto ci cerchiamo di uno perché ti fa passare un messaggio diverso rispetto la mia raccomandazione iniziale è stata facile non è che sia una recita però sia un secondo video che serva per far cambiare io faccio sempre le raccomandazioni prima del video ragazzi non esagerate non fate casino non facciamo niente perché la stazione termine è tutta una telecamera chiunque fa un qualcosa poi ne paga le conseguenze allora quando tu vai a termine sei ripreso dal momento in cui metti il piede sul marciapiede al momento in cui te ne vai da termine e ciò io ho detto guardate sta cosa evitiamola poi ho detto esprimete quello che voi pensate questo è stato io do libertà di opinione anche se sbagliata esprime poi so io che in caso taglio se so cose ovviamente che non si possono mettere però voglio riportare nell'interessa questa esperienza che possa essere negativa positiva che la gente possa essere tra virgolette arrabbiata però siccome stavamo parlando di una cosa tra me e te nel senso tu hai detto a me che io sono indegno perché ho messo il microfono là e io ti rispondo secondo me no perché in quel caso specifico se tu mi dici sei indegno è un attacco personale lo stai dicendo a me questa scena è indegna non alla mia compagnia mia compagnia non la devo difendere loro si possono difendere però se tu mi stai dicendo quella scena reputo quella questa scena la scena della ripresa del ragazzo che viene messo a sedere con il bigliettone no io sto a parlare del saccappello sono tutte scene per me ugualmente indegna ma io sto parlando di quella che mi vede coinvolto io sono coinvolto in quella ma in quella sono direttamente coinvolto ed è cicalone indegno perché gli mette il microfono davanti e io te rispondo che c'è di male a mettere il microfono a una persona che sta parlando la quale se non volesse parlare non volesse essere giusta smette di parlare è una spettacolarizzazione del dolore penso che sia questo posso pensarlo certo ma ci mancherebbe volevo capire questa cosa penso che sia penso che sia e io perché te ho risposto però tu dal tuo trespolo pensi che sia una spettacolarizzazione del dolore e io ti dico vieni una volta vedila dal vivo la spettacolarizzazione del dolore non sarebbe spettacolarizzazione no vedila tu dal vivo non sarebbe la stessa cioè non sarebbe spettacolarizzazione perché non c'è la telecamera come no io sempre con la telecamera ha detto vieni dal vivo dal vivo io sono in bagulio con la telecamera vieni dal vivo quando lo facciamo no ma lui sta a parlare del prodotto quindi il video finito che lascia solamente il messaggio che può essere intrapreso e qua io ti apro quest'altro quesito tu hai detto la gente metà del fascista eccetera eccetera però qua ti domando secondo te per quale motivazione ti danno del fascista? ma è normale se tu vedi cinque persone che camminano cinque persone che magari se uno gli tira una bottiglia che poi anche lì quando hanno tirato la bottiglia se ci fate caso sono andato io non sono venuti loro proprio perché io sono arrivato là ho placato gli anni ragazzi non tirate la bottiglia perché non va bene poi uno mi tocca e ho detto dai non mi tocca ormai lo so il giorno dopo sono andato dagli stessi proprio gli stessi da solo perché molta gente mi ha scritto ah vedi tu da solo tu con quelli ho visto il video che stavi con i ridoni stavi con dei pantaloni sì no prima sono andato prima sono andato con male a piedi sì poi dovevo portare dei vestiti uno a Vincent uno a quello poi mi ha avanzato qualcosa e io ho detto l'altra volta che poi molti hanno detto ah dicevi che li dai meritevoli io l'ho dati a quelli che la volta dopo la prima si erano messi come paceri il capo l'ho dato a quello con il naso storto che è stato uno dei paceri quel giorno quando hanno iniziato a tirare le bottiglie ma figurate non era una questione si faceva molto più audience se a un certo punto questi tiravano una bottiglia tu per difende li dai un pizzone a uno ovviamente lì entravi nel penale però ti eri difeso da un lancio nel bottiglia che la bottiglia viene vista come arma tra l'altro invece c'è il coccio di bottiglia e veniva fuori un film io ho sempre cercato di tenere tutti i calmi indipendentemente dalla parte delle parole però le parole sono volate io le ho lasciate perché poi ognuno può dire la sua ah hanno sbagliato io ti dico alcune parecchie delle frasi sono sbagliate ci mancherebbe di a quello ah ma tanto così è stato prelevato di peso quel ragazzo portato fuori anche minacciato ma ti faccio una domanda sto ragazzo qui questo qua felpa verde e nera Mattia è fascista? no è apolitico guarda è una domanda allora vi dico una cosa no perché abbiamo visto che apolitico mette degli hashtag ma so goliardici tipo duce fascista cioè così per ride non l'ho visto non l'ho visto te faccio vedere guarda te faccio vedere magari magari è goliardia non lo so io non lo conosco non lo conosco guarda la premessa delle persone che vengono con me non ci deve essere politica in nessun frangente del video cioè nessuno deve dire qualunque cosa che riferisca però ti posso dire una cosa non si può parlare di politica ma si può capire la politica di un uomo dall'atteggiamento che ha con una persona specie secondo la persona che ha davanti quindi colore della pelle sesso età quindi diciamo che molto spesso anche in maniera indiretta un apolitico può sembrare schieradissimo vabbè rivedi hashtag poi non so se mi state seguendo però io parlo me ne frego bandano altri box ultras lazio arditi tifosi budapest twinning che poi che roba è twinning ma che cazzo non erano quelli gli hashtag problematici no ma sto cerchendo la somma di tutti gli hashtag era la domanda duce dux ultras me ne frego ss lazio duce alla seconda diventa apolitico diciamo è un insieme di hashtag che poi danno un risultato ma sto scherzando me ne frega per me per me c'è pure il busto fuori dai miei video potete fare quello che volete purché poi non succeda nulla che poi si ripercuote al contrario su quello che è l'immagine dei video faccio esempio mattia faraoni no tu lo vedi è perfetto è lindo eccetera eccetera però per dire mattia per un periodo ha sponsorizzato il trading io so contro il trading ok però posso dire a mattia no non vieni più con me perché sponsorizzi il trading ci mancherebbe è una tua scelta però diciamo che il trading non è produce diciamo che il trading produce ma non è produce però ti sto dicendo allora se tu invece fuori che ne so te fai vedere con un partito politico magari d'estrema destra a fare delle cose io ti rispondo guarda la volta prossima non venì io ho fatto così con delle persone che comparivano nei miei video e poi non sono più venute ma non solo per la parte relativa duce non duce anche magari per cose di violenza o anche magari altre cose anche perché diciamo che l'atteggiamento che ha avuto mattia e l'altro ragazzo col cappello è stato insomma molto problematico anche in video levate le cose extra poi questa era una curiosità no no molto focoso e ti dirò di più io non avrei mai preso quel ragazzo molto rigido infatti la mia prima cosa è stata oh regà non lo prendi lascialo eccetera quello l'abbiamo detto hai cercato di sedare insomma no vabbè però perché l'ho lasciato dopo perché credo che succedendo una cosa del genere vada comunque fatta a vedere ma come hai fatto bene a farmi vedere questo nel senso che qui sto a messo duce dux eccetera non lo so guarda io lo chiederò a mattia io me ne sono accorto io pensavo che era sai che ho detto io in live io in live collegato pure alle cose che avevo letto e tutto ho detto magari sta a fare lì ironia sopra perché gli stanno a dare del fascista adesso adesso me ne sono accorto che erate 4 anni fa quindi pensate cioè nel senso dicevi in relazione ai video io prima ho detto sta cosa appunto per fatemi che uno non è che sta qua col cecchino che stava in malapete però io penso che si capisca che qua nessuno io ho fatto un video anche con un ragazzo che c'aveva o c'aveva ancora non so se sei letto Mussolini e Hitler tatuati sono una conosciuta però ci abbiamo fatto un video lo stesso insieme vabbè è pure il brasiliano no? esatto abbiamo fatto un video con Massimiliano poi tu mi dirai ah ma se tu vai a riprendere il servizio con le luci lui fa vedere che c'è arduce e che c'è Mussolini poi ma poi in conto tu gli avevi fatto un'intervista ci avevi fatto tipo un video è tipo quello con me abbiamo fatto un bello intervista lui però quello è diverso è anche una sorta di cronaca non è tralata però posso dirti una cosa ci so delle persone io ovviamente pure noi abbiamo intervistato persone di estrema destra quello c'è stato poi io anzi tu comunque hai avuto qualche favore con criminali intervistato tu hai sentito quella è una cosa diversa ci sta la domanda mia era visto che determinati atteggiamenti nel video da parte di Mattia dell'altro ragazzo col cappello perdonami ma non so il nome Marcello sono stati atteggiamenti problematici poi uno vede anche queste cose la domanda sorge spontanea ma effettivamente è così è goliardia hanno esagerato nel video pensano davvero quelle cose le reazioni in quel video sono vere cioè non è che se sono nascosti cioè non è che però capisci che è quasi squadrismo il fatto di andare da uno prenderlo tirarlo fuori è una cosa che è giustizia privata Simo tu non l'hai mai fatta una cosa del genere Mattia non l'ha mai fatta una cosa del genere ma io sono d'accordo franchino non l'ha mai fatta su quello sono d'accordo ma infatti non è mai successo che qualcuno ha toccato qualcun altro io nel video ho cercato tra virgolette di fermarlo poi è riuscito non è riuscito cosa è successo di uno specifico nel video lui non era perché è cattivo è perché a lui gli ha preso proprio l'embolo sapendo che quello era passato un minuto prima gli ha tirato il vino addosso alla signora non ci ha visto più so quelle cose che uno per strada reagisce nel traffico in un modo e uno in un altro c'è chi fa l'iniscente del traffico scende più al cric e io spacca in testa uno ed è una reazione c'è chi scende oh scusa facciamo il CID sono due modi di vivere diversi uno ovviamente quando sconfina come sempre come diciamo sempre nell'illegale va punito allora lui è a quel punto Marcello nello specifico io l'ho pure detto dopo lui è a cavallo dell'illegalità in quel caso però io perché l'ho lasciato semplicemente perché non volevo tagliare tutto quello che era successo ma pure perché fa parte del gioco di youtube ma quelle sono le parti che vanno più viste ma infatti il video è andato in tendenza ma non c'è niente di male però però io non voglio neanche che passi il messaggio che ci dobbiamo nascondere cioè qua comunque siamo colleghi sappiamo tutti come funziona internet quindi il fatto pure di sapere io riprendo sta cosa perché tira di più io riprendo sta cosa perché sicuramente ma non c'è niente di male qua le uniche cose sono state dette sul rispetto dell'essere umano non sul cioè io non ti direi mai stai a fare la merda se magari te mi fai 30 video su una determinata persona che va là che mi riprendi quello quasi stavo a parlare più del rispetto e del valore umano ma poi c'è un'altra cosa pure per esempio il discorso della vecchia poi è ovvio che sono video fatti pena determinata motivazione per un determinato scopo quello che ho detto nel video successivo io ho detto però ragazzi nessuno poi tutti i commenti giravano sul fatto del poverino questo qua che poi ripete è stato arrestato tre rapine cacchi mazzi eccetera questo la dice lunga poi per me non è poverino semplicemente non è l'approccio giusto quello del giustiziale privato è vero che non è l'approccio giusto però ognuno risponde delle proprie azioni come dico sempre se Marcello si faceva arrestare quel giorno io non potevo fargli niente capito che è il discorso giustiziale privato tu puoi condannarlo io pure come tu mi hai condannato per il microfono io ti posso condannare per mille altre cose che fai tu nella tua vita però sono opinioni personali invece la parte legale è un'altra cosa la legalità cioè il fatto che Marcello abbia fatto quello è anche illegale oltre che secondo me è sbagliato allora considera che i video miei quello lì poi c'ha 450 mila su youtube e quasi 2 milioni e mezzo su facebook l'hanno visto carabinieri polizia magistrati guardie finanza tutti allora che cosa succede essendo che vedi un reato e che Marcello è una persona nota potevano pure arrestarlo tecnicamente cioè lui se l'ha rischiata doppiamente io giustamente mettendolo in video ho fatto sì che lui se la rischiasse se era un reato poi non l'hanno arrestato o non c'era voglia nessuno di lavorare o non era proprio un reato vero e proprio non lo so non entro in specifiche perché non faccio né l'avvocato né il magistrato relativamente a sti cose di sicuro ti ripeto è sbagliato e quello l'ho detto io per primo regà lasciatelo perde tanto non ve capisce eccetera eccetera io tra l'altro in quel video dico una frase che è stata contestata e dico oh dai evita di andare dalla signora a dargli fastidio perché io ho a che fa con delle persone una pure abbastanza famosa che hanno un problema nel capire magari le cose tu gliele dici allora gliele dici da tipo padre no gli dici oh dai evita andare da sta cosa come tu gliela diresti a un figlio perché hanno un po' una cognizione diversa e gli dici guarda se no mi arrabbio e hanno detto ah questa rabbia è una minaccia ma il mio mi arrabbio non era che vengo e te meno era solo per rafforzare il concetto lascia perdere la signora dai perché se no poi ci fai arrabbiare ma il fare arrabbiare lo stesso gli diresti a un bambino ci fai arrabbiare se continui a menare l'altra bambina perché quello è il gioco quello tirava le bottiglie a una signora anziana non è che stava lì e faceva ciao ciao allora un minimo di cosa gliela dici perché giustamente davanti ai tuoi occhi ha fatto pure lui un qualcosa di illegale cioè lì era la somma di due cose illegali il ragazzo ha fatto una cosa illegale Marcello non ha fatto una illegale come dici te due cose illegali o le perseguiamo tutte e due o sta nulla o le perseguiamo o le perseguiamo tutte e due o le annulliamo non sa nulla se io e te ci diamo un cazzotto per uno o ci abbiamo tutte e due rissa o ci prendiamo niente ah vabbè abbiamo scherzato perché il cazzotto mi hai dato uno te l'ho dato io se io ti davo solo un cazzotto la colpa era solo mia ma il cazzotto me l'hai dato pure te e allora stiamo pari questo nella strada magari c'è l'inconita della legittima difesa magari dipende se ce lo siamo dati io non ho studiato legge sicuramente io chiederei anche perché te vanno a casa che c'è una via mezzanotte e mezza no ma facciamo poi una live pure perché mancano un po' di tasselli però volendo si può organizzare anche perché volevamo invitare Mattia Pileggi e Slava Di Davide secondo me è una bella idea pure per magari fa volentieri altri discorsi sì sì no ma chiaro ho detto io è stato più un intervento estemporaneo sei pinerenti ai tuoi vicini e no sui cazzi privati mi stavo sentendo parte a live perché mi hanno segnalato ho detto vabbè visto che sto qua intanto devo ritornare giù alla piramide vabbè mo spegniamo la telecamera e c'è meno e mo spegniamo la telecamera ma io chiamo Canepazzo posso? vabbè con Canepazzo così almeno stiamo tranquillo alzo le mani perché Canepazzo ma lui sempre lo dice se faccio uno contro uno con Cicalone gli faccio un bucio di culo così lui sempre così dice però Canepazzo si deve ricordare che indipendentemente dall'abilità e tutto la differenza di peso è tanta troppa che ci saranno 30 chili ebbè lui ne pesa una settantina credo 70 a zavorra gli pesa l'altro giorno ho incontrato Canepazzo proprio sotto casa mia stava tutto un fighettito con il motorino no no siamo messi a chiacchierare stavo andando a lavorare mi ha detto ma avessi tutto di tutto punto poi io ho detto ma non te riconoscivo pare di una guardia gli ho detto sai che sta a fare lo stesso lavoro che faceva Statham nel film la guardia del corpo io ho detto la guardia del corpo transporter no me la zia fa come Statham perché ha scritto nonna Lucia nonna Lucia ha scritto fate i bravi pure Cicalone quindi nonna Lucia nonna Lucia l'ho aspettata è pure Canepazzo quindi Jessie P89 Cicalone che figuraccia che hai fatto vabbè ma non cominciamo ma tanto sono tutti schierati un po' qua un po' là ma noi noi li lasciamo fare noi li lasciamo fare tutti grazie per la visita mi ha fatto piacere abbiamo anticipato il confronto ah c'è pure gli avvocati sono i giudici studenti ormai le chat sono fantastiche ma secondo me sai perché perché secondo me è anche carino magari prendere più punti e più cose perché sono talmente tanti i video che magari bisognerebbe fare attenzione più su altri particolari per esempio io vorrei prendere visto che l'ho letto sia in chat sia prima mi sono arrivate segnalazioni con i minutaggi e i video visto che sia quel ragazzo è stato accusato di essere molto violento in determinati video e tutto se proprio non fa secondo me anche un sacco di discorsi costruttivi quindi anche a far capire magari che quella non era violenza era stata fatta a parte motivazione perché io per dire se posso dire una parola io ho visto che le mani alzate non c'è mai stata violenza la cosa più violenta è stata vista qua però io se posso dire le uniche volte che ho visto che qualcuno faceva così uno di quelli erano sempre perché si avvicinavano troppo alla ragazza che li prende quindi per quello dico se possono fare più discorsi quindi secondo me ha anche senso una scuola dove non c'è violenza è una stupidaggine c'è una sorta di violenza come giustamente Marra probabilmente sarà esprimere meglio e lui essendo un pacifista è una violenza abbastanza come dire complessa dalle parole anche ai modi anche al fare tirare uno banalmente atteggiamento intimidatorio poi eravate in gruppo ma io su quello non ti do torto ti dico l'ultima cosa poi chiudiamo perché è tardissimo pure ripeto il segmento in cui il ragazzo viene pagato per mettersi a sedere secondo me non è diverso dall'atteggiamento di Elia Baby nei confronti di social boom prende uno a fogallo aspetta poi stiamo a parlare di uno che ha fatto di peggio però come come mentalità ovviamente è più grave quello di Elia per la morditi però come mentalità in realtà a me invece è piaciuta la reazione del ragazzo che io conosco benissimo tra l'altro quello lì che voleva buttare i soldi però come mentalità è una sorta di sottomissione capisci che molto dato 10 euro sta a tezzino è certo ma Marcello ha fatto quello ma il ragazzo è stato ancora più dignitoso nel senso sai che faccio li butto sti soldi no no ma infatti tu parlo della scelta di Marcello ti dico nella sua testa io posso comprare il tuo diciamo assenso con 10 euro no e che sbaglio secondo me la scena brutta ma su quello siamo ma su quello siamo d'accordo ma io infatti ho lasciato pure la scena dopo che lui gli dice all'inbuto oh non l'inbuta che questo si guadagna i soldi ma non parlavo della dignità del ragazzo no no ma guarda che quel ragazzo lì tra l'altro se lo vedi sobrio è uno che c'ha testa tra l'altro infatti c'è il video dell'intervista l'ultimo di termini se ve lo vedete ci stanno loro due quel ragazzo e l'altro che noi intervistiamo quella sera e io a un certo punto gli dico pure voi due ma lavorate loro mi dicono no guarda è un momento io mica gli ho detto sia i fancazzisti io ho detto ve capisco perché se state qua buttati per terra guarda io con questi ci parlo adesso al di là delle telecamere tantissimo e so molte storie personali c'è chi ha subito violenza c'è chi è morta tutta la famiglia c'è chi giustamente ha iniziato a beve e a drogasse perché i psicofarmaci non gli facevano più effetto perché ci sono anche tante il problema però e chiudo dicendo sta cosa al di là di tutto il casino che c'è mediatico e tutti i vari video che poi hanno delle gradazioni diverse il concetto finale è sempre la denuncia cioè fin tanto che tu queste cose non le fai vedere la gente non si indegna non succede un cacchio il sottopasso del turbico è stata la mia battaglia è costato 500 mila euro alla fine il sottopasso del turbico oggi è un posto e uscirà pure questo il video dove adesso puoi passare tranquillamente illuminato pulito ho detto anche questo comunque nella live e ti dico ho detto che molti video molte battaglie sono state utili per raccolte fondi anche ho detto anche il fatto che siano video molto visti con milioni di visualizzazioni magari possono smuovere un po' la politica che per consensi dice oh sto cicalone mi rompe il cazzo fammi fare qualcosa però per avere i milioni di visualizzazioni ci devi mettere anche cose tra virgolette scomode sì però secondo me c'è un limite che tu non avevi mai sorpassato fino a questo video mio pensiero posso dire secondo me hai sempre fatto video l'ho detto provare inizio live dove riuscivi a rimanere in un limite di mostro qualcosa per suscitare mobilitazione ma non vado oltre qui si è andato oltre questo è il sun non ci mancherete e mi dispiace perché ripeto sei una persona che stimo che stimiamo tutti e il rischio che poi gli ultimi 12 mesi è vero perché io sono arrivato tardissimo a che ora sono arrivato scusate stavo in strada io sì infatti la follia vabbè Simo dai ci sentiamo passivamente ragazzi ve lasciamo andare a dormire adesso devo andare con franchino a sistemare un po' le situazioni è calla ragazzi se non ci vedete domani alle 15 giornata particolarissima allora tre pianomarra no scherzo ma te lo sai oggi noi con chi abbiamo mangiato a pranzo l'ho visto il video già anteprima già hai visto ah perché esce domani a luna sì che voi avete fatto una bella discussione del franchino mentre loro andavano a prendere i banini a quello che era esatto sto spoiler a tutti basta va troppi spazi domani allora siamo stati un'ora all'auto sì in casino ha fatto ritardo chitano incredibilmente prima volta che poi avete fatto delle riprese dalla macchina stavre i Kubrick bellissime stupende poi franchino col microfono che bella basta 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 allora ce lo vediamo domani ce lo vediamo domani in live domani alle 15 su youtube intervista linton johnson su youtube giocatore del basket grazie grazie bonac ci vediamo domani alle 15 su youtube e domani sera su twitch probabilmente vedremo il video di franchino se non ci vedete live ai 15 sapete con chi prendervela ciao ragazzi vabbè mi sono autoaccusato ciao cicalò ti posso chiedere un favore tra tre secondi puoi urlare a cicalò vai uno due a cicalò ma che stai a fa ricordate che i squali stanno a arrivare che i squali stanno a arrivare è l'ho crocian rindo aí tra tre prime vadia il spettere il 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 i i i ti e i Che sembra assurdo? State pure registrando Aspetta, due caccia di due caccia Tutti al bagno Come ti ho fatto?